senti stando lontano così posso togliermi allora buongiorno a tutte a tutti bisogna vediamo me le sono levata per la mascherina solo perché sono lontano e la professoressa bianchi sta lontano ma poi è anche per vedervi in faccia perché saluto prima di tutto le studentesse e gli studenti con le colleghe colleghi che sono qui allora presentazione semplicissima io sono freddinando abri insegno storia della filosofia in questo dipartimento e allo stesso tempo però sono il direttore del disfuci il direttore pro tempore sono come si dice un tempo si diceva il capo di questa cosa capo di poco è non vi preoccupate allora il mio compito è molto semplice darvi il benvenuto al pionta darvi benvenuto dentro disfuci augurarvi il un buon lavoro è un anno molto particolare è un anno complicato noi normalmente quando iniziamo l'anno accademico il giorno dell'accoglienza abbiamo quest'aula strapiena in collegamento l'aula quest'anno siamo costretti giustamente a usare ovviamente dei sistemi di sicurezza e è un po più faticoso c'è meno libertà indubbiamente per voi come per noi ma la situazione attuale che è mondiale non solo del paese ci costringe a questo cosa devo dirvi noi abbiamo una tradizione che cerchiamo di rispettare sempre anche in condizioni ovviamente di controllo tradizione di essere veramente un dipartimento un'università in che senso capite che ci sono io sono sono vecchio su un anziano ma un tempo c'era l'idea l'idea tutto sommato di alcuni studenti e alcune dei miei tempi quando si andava uno andava lì dava un'occhiata prendeva il programma degli esami se ne tornava a casa aspettava l'appello a studiare eccetera io ho sempre creduto che quella non fosse l'università l'università è stare insieme università e lavorare insieme l'università e stare con in un colloquio continuo non solo con i propri colleghi ma con i docenti e i professori noi questo è una delle cose una delle cose a cui abbiamo sempre tenuto e teniamo anche in una situazione difficile come quella attuale perché crediamo veramente che non sia semplicemente stare qui a prendere certe cose che non è semplice ma apprendere certe cose è fondamentale però è anche scambiare idee opinioni lavorare insieme e diventare essere veramente quello che era un universitas cioè quello dell'essere insieme con i docenti i colleghi e le colleghe e colleghi sia del settore scienze educazione sia del settore di lingue sono disponibilissimi sono sempre stati sono così una delle cose a cui crediamo di più sono disponibili sono a vostra disposizione per tutti i problemi che possono sorgere sono i problemi di apprendimento come problemi di organizzazione e però questo a noi teniamo molto perché abbiamo inventato un campus che vuole essere tale ripeto con tutte a me fa un po effetto vedere i cartelli ingresso su appuntamento alla biblioteca ve lo dico perché sono quello stato quello che ha portato l'università qua dentro fa effetto mi fa molto effetto essendo abituato a girare andare a destra a manca però questo è necessario però cerchiamo di mantenere il fatto che voi siate qui numerosi ma francesca bianchi mi ha detto sono sopra in collegamento ci sono i collegamenti giustamente da casa il loro diritto ci crediamo molto e ci proviamo a lavorare studiare e fare formazione e preparazione in questa situazione benvenuti e benvenute e benvenuti a tutti buon lavoro vi lascio in mano a professoressa bianchi ai colleghi e alle colleghe che vi spiegheranno qual è il lavoro che si fa qua dentro che è un lavoro non semplice non semplice siamo in un dipartimento universitario non è un lavoro semplice perché l'apprendimento di professionalità nell'ambito educativo l'apprendimento delle lingue non è una cosa semplicissima è una cosa complicata ci vuole pazienza eccetera però si esce fuori da poi con tante cose che consentono ovviamente di lavorare di essere nel mondo del lavoro pensate io è il mio ultimo anno di saluto sto finisco questo anno me ne vado in pensione perché sono ho finito il mio servizio però una cosa sono sempre convinto da dopo molti anni carriera accademica di una cosa la preparazione e le competenze sono una carta fondamentale di per presentarsi nel mondo del lavoro sono una carta fondamentale quindi questo posto vi dà la possibilità di acquisire quella carta e quelle carte e quindi credo che dobbiate sfruttarlo al massimo buon lavoro buon lavoro di nuovo e benvenuti grazie ringrazio molto il direttore per questo così eh benvenuto eh intanto mi presento io sono Francesca Bianchi delegata all'orientamento di questo dipartimento ho detto prima perché giravo un po' tra le tra le aule visto che siete tanti e di questo siamo contenti siete distribuiti in diverse aule di questa palazzina donne che avevamo appunto prenotato nella sua interezza di là mi ero già presentata di qui invece no e per diciamo in quanto delegata all'orientamento ci tengo anche a dire che al di là di stamani che è appunto una mezza giornata di accoglienza e cercheremo di fugare tutti i dubbi cercheremo di presentarvi al meglio servizi e i corsi di laurea naturalmente triennali potete naturalmente scrivermi trovate la mia mail all'interno del sito del disfusci vi faremo vedere ora piano piano anche il sito e quindi potete anche poi successivamente a stamani eh scrivermi eh ovviamente noi siamo molto contenti che voi siete qui come vi rendete conto eh quest'anno è un anno un po' particolare è un anno di transizione di chiamiamolo così eh c'è stata una pandemia piuttosto grave abbiamo avuto già nel secondo semestre dell'anno accademico precedente un erogazione da parte della nostra università di lezioni online e devo dire che eh ci tengo a sottolineare che non è stato perso nemmeno un giorno di eh didattiche questa è una cosa molto importante perché vuol dire che le università piano piano progressivamente hanno imparato anche no ad essere in qualche modo eh in linea con i tempi e quindi anche a a poter permettere il diritto allo studio degli studenti quest'anno anno anno accademico duemilaventi duemilaventuno eh alcune università ma direi molte decidono hanno deciso di ripartire in presenza il che però vuol dire che assicureremo cercheremo di assicurare anche una diretta streaming per chi in qualche modo non frequenterà dovete quindi avere un po' di pazienza questo è un anno lo dico a voi ma lo dico ovviamente eh pensando anche a noi docenti che insegniamo qui perché diciamo è un momento in cui di ora in ora di settimana in settimana le cose ovviamente eh si spera possano modificarsi per il meglio però ecco credo che sia importante dare anche una così una 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 sorta di sicurezza o quantomeno di conforto di supporto perché cercheremo di fare di tutto appunto per gestire prima quello che è stata l'emergenza e ora in qualche modo il post eh pandemia. Io ringrazio naturalmente i colleghi che vedo lì anzi mi dispiace che stiate in piedi e quindi insomma qui ci sono anche le sedie potete ovviamente eh venire eh chiamerei il delegato al tutorato perché eh appunto l'orientamento è una una così una questione abbastanza complessa un servizio che prevede orientamento in ingresso ma prevede anche il tutorato appunto Alessio Ricci è il delegato al tutorato del dipartimento il che vuol dire che non vale che non conta solo un orientamento appunto in ingresso no? Per chi sostanzialmente arriva dalle scuole superiori ma è molto importante continuare questa azione di supporto e di orientamento anche durante tutta la vostra permanenza qui. Vi abbiamo distribuito appunto il gioco del disfusci che vuole essere sostanzialmente una eh una sorta di così di 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 metafora se volete del gioco dell'oca per farvi capire che c'è anche un modo per aiutarvi per sostenervi insomma no? Giustamente voi siete qui stamani anche per cercare di capire che cosa si deve eh fare e quindi quali sono anche un po' le tappe che dovete seguire. Eh noi abbiamo cercato come diceva prima il direttore non soltanto di accentrare tutti i servizi che sono qui come avete visto questo campus è un campus che si raggiunge molto bene perché siamo veramente molto vicini alla stazione e non dovete impazzire non dovete poi muovermi per cercare altre strutture è tutto qui le aule la biblioteca il centro linguistico eh la caffetteria la mensa eh insomma abbiamo cercato ovviamente di rafforzare quella che era l'importanza di avere appunto le eh i vari servizi tutti concentrati e mh però al di là di questo eh ci teniamo anche a presentarvi tutta una serie di servizi che sono eh rintracciabili anche online perché davvero abbiamo cercato di curare molto la eh le informazioni che sono presenti ehm appunto nel sito del dipartimento allora io non vorrei eh più dire altro anche perché sono tante le cose che dobbiamo presentarvi e se no vi appesantiamo fin dall'inizio non so se Alessio vuoi dire due parole di benvenuto e poi partirei. Sì eh allora eh naturalmente vi do eh il benvenuto eh qui nel nel nostro dipartimento mi auguro che questa questa nuova esperienza che state per per intraprendere eh possa essere proficua per per il vostro presente per il vostro futuro e e che tutto funzioni per il meglio. Eh ovviamente come in una o in ogni nuova avventura eh abbiamo dubbi, curiosità, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un po' una mano a capire meglio come funziona quello che stiamo facendo e il ruolo del delegato per per il tutorato è proprio questo quindi io cercherò nel nel corso del del presente anno accademico come ho fatto negli anni accademici negli ultimi due anni accademici cercherò di curare un po' questo aspetto quindi tutto ciò che riguarda il tutorato un un aiuto eh nei vostri confronti eh per risolvere qualsiasi tipo di eh di problema. Ne parleremo meglio tra eh tra pochi minuti quando vi eh vi illustrerò in particolare la figura del docente tutor e dello eh studente eh dello studente tutor. Eh ecco eh dunque adesso ehm per quanto riguarda la eh l'aspetto della didattica eh dunque chi è che se ne occupava? Vediamo un po' altrimenti io eh mi soffermo direttamente ma direi sì sì dai lascio 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 la parola esattamente lascio la parola al collega Claudio Melacarne che vi racconterà un po' come funziona la didattica qui nel nostro campus. Molto velocemente buongiorno mi sentite? Sì? Ehm io sono un docente di pedagogia educazione degli adulti eh però faccio il delegato alla didattica del dipartimento non sto raccontarvi cosa significa ma sostanzialmente vuol dire organizzare insieme alle colleghe eh i corsi di laurea e insegnamenti i piani di studio. Eh due informazioni credo che vi interessino non so se eh avete già eh recuperate da internet come funzionerà il primo semestre. Eh poi dal secondo semestre speriamo che ritorniamo con calma la normalità. Il primo semestre noi regoleremo tutti gli insegnamenti in presenza e online quindi il docente sarà in presenza eh non potrà girovagare nell'aula ma dovrà stare all'incirca di fronte al proprio computer perché il computer trasmetterà in diretta la lezione a tutti coloro che per vari motivi non possono venire in presenza o non vogliono venire in presenza. Quindi le lezioni sono erogate in aula eh o a distanza. Il link delle lezioni di solito al 99% è il link che il docente ha nella propria nel proprio profilo. Se voi andate a docenti unisi ognuno di noi ha un profilo e c'è un link che si chiama eh si chiama ehm teledidattica lezione a distanza. Ci cliccate e il docente eh in quell'ora in eh in cui avete lezioni di quella disciplina lo dovreste trovare online se tutto funziona correttamente. In questa organizzazione voi avete visto stamani per collegare queste aule a volte ci sono un po' di di problemucci ci può stare quindi il consiglio che ci diamo è nel bene o nel male non abbiamo fretta non avete fretta cioè se si può succedere che a volte ci siano delle delle problemi tecnici d'altronde eh ci sta quindi noi siamo abbastanza tranquilli abbiamo già erogato come diceva la professoressa Bianchi gran parte del no tutte le lezioni di fine anno prima dell'estate abbiamo fatto le tesi online e abbiamo fatto gli esami di dottorato online quindi per noi è abbastanza chiaro e tranquillo eh non ci arrabbiamo se ogni tanto salta qualcosa e se se perderemo un quarto d'ora per organizzare meglio l'online ok? E poi dal punto di vista della didattica scoprirete anche qui non avete subito fretta magari dopo quando avete i vostri corsi di laurea fate le domande specifiche su che ne so gli orari eh la segreteria online come funziona gli esami in due o tre giorni uno capisce benissimo tutto è molto semplice tutto anche tutto online eh quindi tutti gli anni dopo la prima settimana si si parte con tranquillità dopo avete l'occasione rispetto al vostro corso di laurea di fare domande eh dedicate al vostro percorso alcuni di voi ho capito che non si sono ancora iscritti o iscritte anche questo lo potete affrontare dopo nel vostro corso di laurea molto semplice si fa tutto anche qui online segreteria online vi scrivi entrate credenziali arrivate a un punto dove verrà chiesto il cedolino per pagare la tassa se la pagate siete iscritti se non la pagate dovete aspettare molto semplice io non ho granché da dire nel senso che dopo voi farete domande eh che vi interessano per chiarire alcuni punti e sapete già benissimo l'abbiamo già visto le regole sono quelle che conosciamo siamo tutti molto tranquilli abbiamo i gel abbiamo le mascherine anche per chi si la fosse dimenticata a casa però distanziamento mascherina e socialità eh comune ci divertiremo comunque il primo semestre poi se se riparte la normalità ci ci possiamo anche divertire a fare per esempio noi facciamo molti lavori di gruppo anche al triennio in questo caso qui la didattica purtroppo è più tradizionale non possiamo fare grandi cose attive e basta io non non ho altro da dire credo che loro dopo avranno occasione di fare le loro domande per chiarire i punti un po' ancora oscuri che è normale che ci siano ok allora grazie infatti diciamo il suggerimento è quello che teniate da parte possibili dubbi quesiti perché poi ovviamente cerchiamo anche di rispondere a questo allora io darei la parola al collega Alessio Ricci perché adesso vi presentiamo eh proprio quello che è il servizio di tutorato eh di cui credo eh possiate fare tesoro sì grazie allora dunque come vi dicevo poco fa eh noi abbiamo in particolare due figure eh dedicate nel nel nostro dipartimento per i nostri corsi di laurea eh che eh possono aiutarvi a comprendere meglio come funziona il il corso e a chiarire eventuali dubbi e curiosità eccetera allora la prima figura è quella dello studente eh tutor eh chi è lo studente tutor è uno studente che ha un po' più di esperienza eh di voi uno studente che ha già conseguito una laurea eh triennale e che è iscritto eh alla eh alle nostre lauree eh magistrali eh e questo studente eh naturalmente fa un fa un concorso percepisce un compenso per il lavoro eh che svolge e eh aiuta gli studenti del delle lauree triennali sia di lingue sia di scienze dell'educazione e della formazione eh per qualsiasi per qualsiasi ehm curiosità vi faccio un esempio eh noi abbiamo eh qualche giorno fa abbiamo istituito un calendario con le nostre noi abbiamo tre studentesse tutor se andate sul sito del disfuci e e andate nella sezione dedicata all'orientamento e al tutorato eh troverete le fotografie con delle nostre tre studentesse con il loro eh indirizzo eh email e anche con la loro stanza Gmeet eh ora sul sito del dipartimento voi troverete è sulla home page quindi la lo potete eh individuare immediatamente eh troverete un calendario di eh incontri eh tramite Google Meet eh che le nostre studentesse si dedicano proprio ai nuovi immatricolati cioè eh a voi quindi se avete se da diciamo dall'una in poi alla fine di questa nostra mattinata avrete ancora qualche eh curiosità qualche dubbio eccetera eccetera potete eh guardare questo calendario di incontri e eh parlare con una delle tre studentesse tutor si chiamano Sara Falchi eh Elisa Locci e Francesca Gallo dovevano essere dovevano essere collegate ma eh non riesco a vederle e eh temo che ci sia stato un 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 problema tecnico comunque eh sono molto disponibili loro saranno in carica fino alla fine del dell'anno ma già dalla metà di ottobre diciamo nella seconda metà di ottobre avremo eh i nuovi studenti tutor il bando è scaduto adesso tra un po' faremo la selezione e quindi ci saranno disponibili dei nuovi studenti tutor saranno almeno tre speriamo anche speriamo anche qualcuno eh qualcuno di più perché effettivamente c'è molto da fare quindi ricordatevi eh questa importante figura no? Uno studente come voi che ha già fatto il vostro il percorso che voi state intraprendendo e quindi che ha un po' di esperienza per potervi per potervi aiutare per potervi dare i giusti suggerimenti. Eh la seconda eh la seconda figura di cui eh vi voglio parlare è quella del docente docente tutor. La maggior parte dei docenti di questo dipartimento eh sia quelli di eh lingue sia quelli di scienze dell'educazione e della formazione la maggior parte svolge anche questo servizio quello di docente tutor. Eh come funziona? Allora voi riceverete nelle prossime settimane e se non la riceverete ricordatevelo e contattate la eh l'ufficio orientamento e tutorato di Siena. Perché è da lì che partirà questa mail. L'ufficio orientamento e tutorato di Siena vi invierà una mail eh al vostro indirizzo istituzionale. Eh vi invito, probabilmente ve lo ripeteremo più di una volta, vi invito a consultare regolarmente l'indirizzo email istituzionale. Non dico tutti i giorni ma quasi. Insomma abituatevi a eh a usare questo indirizzo come usate gli altri che normalmente che normalmente utilizzate. Allora a questo indirizzo vi arriverà una mail dell'ufficio orientamento e tutorato. Eh eccola adesso la state vedendo. E eh in questa mail vi verrà assegnato un docente tutor. potrei essere io. Eh potrebbe potrebbe potrebbero essere una dei colleghi che vedete lì eh come Stefano Gonnella, Sebastiano Roberto, eh il collega ehm Siniscalco, Federico Siniscalco, eh e tanti altri eh siamo adesso il numero preciso non lo ricordo ma siamo circa una quarantina trentacinque 40 docenti tutor. Ad ognuno di noi eh è assegnato un gruppetto di studenti, sette o otto di solito. Che noi seguiremo, ognuno di noi seguirà il proprio gruppetto di studenti eh per tutti e tre gli anni del del corso di studi. Allora eh non appena non appena riceverete questa email dall'ufficio orientamento e tutorato. Vi invito a scrivere subito al vostro docente tutor, quindi prendere subito contatto con il vostro docente tutor eh il quale eh di solito prima di Natale eh organizza organizza un incontro con i propri studenti. Per conoscersi, per risolvere le prime questioni, i primi dubbi, per sentire un po' come va eh come sta andando il percorso appena cominciato, eccetera eccetera. Quindi ricordatevi di questa mail che dovrebbe arrivarvi non appena avrete ultimato la il processo di immatricolazione eh e eh se qualora questa mail non dovesse arrivare scrivete all'ufficio orientamento e tutorato di Siena perché purtroppo qualche volta capita per varie ragioni eh non arriva questa associazione con un con un docente tutor. Quindi avete queste due importanti figure che eh vi eh accompagnano durante il vostro percorso di studio e che vi possono aiutare a a fare delle scelte, a risolvere dei eh dei dubbi eccetera eccetera. Quindi sia le studentesse tutor eh dico studentesse perché perché quest'anno sono tre ragazze, l'anno prossimo eh ancora non sappiamo né quanti saranno né ovviamente se saranno uomini o donne e eh e poi i docenti tutor. Ognuno di voi avrà un docente tutor. Quindi cercate entro la fine di novembre, primi di dicembre, cercate di capire chi è il vostro docente tutor e di prendere contatto con con il vostro docente tutor. Eh infine eh direi ecco poi magari eh magari farei dire due parole a qualche collega eh docente tutor come me eh che può magari integrare quello che quello che sto dicendo ma eh l'ultima cosa che vorrei dirvi è che c'è una terza una terza figura importante per voi per per il vostro percorso universitario che è quella dei rappresentanti è quella dei rappresentanti degli studenti. Allora in ogni in ogni organo in ogni organo che serve a far funzionare eh il dipartimento, i corsi di laurea eccetera eccetera voi avete dei rappresentanti. Quindi degli studenti che sono il cui ruolo è molto importante perché funge da raccordo fra tutti voi e i docenti. Eh quindi imparate anche e cominciate fin da subito anche a prendere contatto con i rappresentanti degli studenti sia quelli che lavorano nel consiglio di di dipartimento sia quelli che lavorano nei comitati per la didattica dei vari corsi di lingue eh nei vari corsi di studio o lingue o scienze dell'educazione e della formazione per voi che siete che siete appena entrati. Quindi eh tre figure eh tre figure eh sicuramente per voi soprattutto all'inizio soprattutto nei primi mesi nel primo anno molto importanti che vi possano aiutare a eh risolvere qualsiasi 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 tipo di dubbio. Allora io magari ecco chiederei a eh a Stefano Connella a Sebastiano Roberto di eh presentarsi eh ed eventualmente aggiungere qualcosa a quello che ho appena detto. Grazie Alessio. Allora buongiorno io sono Stefano Connella, tengo l'insegnamento di fenomenologia della cura per i corsi di laurea magistrale e didattica della filosofia per i corsi di formazione insegnanti. Sono docente tutor per scienza dell'educazione e della formazione e eh c'è un punto su cui vorrei portare la vostra no si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Si sente? Finora avete seguito un percorso scolastico e tra questo percorso scolastico e il nuovo cammino universitario c'è uno stacco. C'è una soluzione di continuità. Diciamo riecheggiando forse a sproposito il filosofo francese Jean-Paul Sartre voi siete condannati alla libertà. Che vuol dire? Che qui non ci sono campanelle che suonano, assenze da giustificare, lezioni con obbligo di frequenza, interrogazioni settimanali. Voi dovete organizzare in piena autonomia il vostro studio e il vostro lavoro. Allora ci possono essere degli intoppi. Sono sicuro che sarete tutti e tutte all'altezza di questa sfida, però potrebbe esserci una difficoltà. Faccio per dire, i libri su cui avete studiato finora sono dei manuali. D'ora in poi dovete leggere e interpretare monografie, articoli scientifici. Il vostro metodo di studio potrebbe non essere calzante rispetto allo stile di insegnamento dei nuovi docenti, quelli che incontrerete da oggi. Allora queste piccole difficoltà vanno risolte subito. Ecco che la figura del docente tutor è qui per aiutarvi a far sì che questo piccolo sassolino all'inizio del cammino non divenga poi un macigno che possa rallentare o peggio interrompere il vostro percorso universitario. Quindi vi invito a non perdere tempo, a rivolgervi direttamente, immediatamente ai vostri tutor e ai tutor che vi sono stati affidati. Detto questo, benvenute e benvenuti nella nostra università, anche da parte mia. Grazie Stefano. Ecco, lascio la parola a Sebastiano Roberto che è un altro dei nostri docenti, anche docente tutor. Grazie Alessio, benvenuti a tutti. Sono Sebastiano Roberto e insegno, tengo due insegnamenti, uno per gli studenti di lingue, architettura e città contemporanea, e sia anche per gli studenti di scienza dell'educazione, società contemporanea, città e spazi educativi. Che dire, sarò molto breve, oltre al doveroso benvenuto, vi ricordo appunto che quanto ha già detto in fondo il collega Alessio Risci, utilizzate il più possibile queste figure che avete di riferimento, a cominciare dagli studenti tutor e anche i docenti tutor, perché molto spesso accade appunto che forse si sottovaluta un po' questa possibilità che voi avete, cioè di dialogare direttamente con noi. È così un modo molto semplice, molto informale per risolvere problemi, prima ancora che questi problemi possano diventare complicati per voi e spesso accade appunto che si arriva soltanto all'ultimo momento a segnalare magari qualcosa che non funziona o che non vi soddisfa. Invece dalle piccolissime cose fino alle più grandi avete la possibilità di confrontarvi con noi. Quindi quando scriveteci naturalmente, quando ne avete bisogno, anche per cose molto semplici, o quando noi scriviamo a voi rispondeteci, perché molto spesso succede appunto che i nostri inviti, anche per incontri occasionali che organizziamo proprio per fare un po' il punto della situazione durante i vostri studi, questi appuntamenti vengono un po' disattesi ed è un peccato perché invece è un'occasione per poter avere proprio il polso della situazione. Anche noi abbiamo molto bisogno del vostro aiuto, di un confronto diretto con voi. Che dire di più? Questo è l'invito a contattarci sempre, a dialogare con noi, a presentare tutti i vostri problemi, le vostre difficoltà. E naturalmente in bocca al lupo, in bocca al lupo per i vostri studi. È un investimento importantissimo quello che voi state facendo, quello che le vostre famiglie stanno facendo, per cui ricordatevelo questo, non sprecate quello che state investendo perché è un momento molto importante per il vostro futuro. Bene, allora in bocca al lupo a tutti. grazie. Grazie. Ovviamente ci sono anche altri docenti tutor, ma non possiamo presentarli tutti stamani. Volevo, prima di passare agli altri servizi, volevo semplicemente ricordarvi che c'è un altro servizio a disposizione degli studenti, al di là delle attività e iniziative di tutorato, che ha a che fare appunto con un elenco di fac, quindi sono sostanzialmente domande, le domande che più spesso gli studenti in qualche modo si pongono e pongono. E queste domande le trovate all'interno del sito del dipartimento. Ora fra l'altro le stiamo anche un po' cambiando, le stiamo rafforzando, cioè è una pagina che verrà ampliata. Ecco, lo trovate qui, servizi per gli studenti. Quindi anche questo può essere, vedete, avete tutta una serie di servizi che sono a vostra disposizione, alcuni ovviamente anche stamani ve li presenteremo. Ecco, no, dovrebbe essere qui, ma invece non le trovo. Allora forse ho sbagliato qualcosa, no? Però era qua, servizi per gli studenti. Forse è in aggiornamento. Comunque ecco, eccole qua. Domande e risposte. E quindi anche questo è, diciamo, vi consiglio di andarle a controllarle spesso, perché soprattutto in un momento come questo può essere un altro elemento, un altro servizio che vi aiuta. Allora, questo per quanto riguarda quindi una presentazione sintetica delle iniziative di tutorato. Di nuovo vi invito a tenere eventuali dubbi da parte, perché dopo vi lasceremo un po' di tempo per gli interventi. Volevo invece adesso presentarvi molto velocemente il Campus Lab, che è uno spazio a disposizione vostra, a disposizione degli studenti. È proprio stato inaugurato qualche anno fa con l'idea che fosse uno spazio a disposizione per gli studenti per studiare e fra l'altro per studiare insieme. Allora, vi potete rendere conto in un momento come quello attuale in cui la regola è piuttosto quella di distanziare gli studenti, invece che farli così lavorare troppo vicini, il Campus Lab potrebbe essere un qualche cosa di non particolarmente adatto. Ma in realtà proprio perché noi crediamo che sia uno spazio importante anche proprio in un momento come questo per gli studenti, allora abbiamo in qualche modo cercato di renderlo comunque un luogo frequentabile. E allora dal 19 di ottobre in poi, ora la data prendetela in termini anche un po' flessibili, ma cercheremo di far tutto perché quel giorno, mi pare sia un lunedì, il Campus Lab possa riaprire. È uno spazio limitrofo alla biblioteca. Un tempo avreste trovato addirittura anche dei testi, dei libri a scafale in modo che avreste potuto appunto per una ricerca, per un esame, per la tesi, avreste potuto prendere il libro e avreste potuto consultarlo lì per lì. Questo servizio non è possibile, ve ne renderete conto e allora i libri torneranno nella biblioteca. Però dal 19 di ottobre sarà comunque possibile frequentare questo Campus Lab, bisognerà prenotarlo al presidio che sostanzialmente è il servizio che segue, supporta studenti e docenti per far lavorare una struttura come questa e quindi di nuovo anche lì trovate naturalmente tutto nel sito del dipartimento, eccolo qua, Campus Lab, basterà mandare una mail al presidio, ora qui appunto abbiamo anche la mail e vorremmo insomma almeno all'inizio garantire tre giorni di apertura alla settimana, quindi apertura con servizio di prenotazione, l'entrata sarà sostanzialmente l'entrata B, insomma si entrerà dall'entrata B ma sono tutte informazioni che ovviamente metteremo. Quindi ecco sappiate che c'è anche questa possibilità, è chiaro che saranno pochi gli studenti che potranno andare volta per volta, però uno lo sa, si prenota per tempo e potrà usufruire anche di questo servizio. Allora, a questo punto io darei la parola alla biblioteca, quindi chiamolo Scilla Gigli e Rosaria Valenza perché molto sinteticamente cercheranno di spiegarvi appunto il funzionamento della biblioteca in un momento come quello attuale. Ovviamente tutto quello che noi stiamo dicendo lo stiamo dicendo, lo ricordo, per quanto riguarda il primo semestre e soprattutto questi mesi. Vedremo andando avanti poi di volta in volta che cosa potremo fare per tornare ad una normalità piena. Ora siamo in una normalità dimezzata, diciamo. Perfetto, grazie. Questo non è possibile per utilizzare, avevamo anche le slide, no? Va bene. Niente, come non ho detto. Non è possibile. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Rosaria Valenza e la collega Lucilla Gigli. Noi siamo della biblioteca e voglio spiegarvi cosa, innanzitutto, la biblioteca sapete tutti a che serve, no? In questo caso l'università è di supporto alla didattica e alla ricerca. Allora, noi abbiamo, quindi forniamo le postazioni per lo studio, la sala lettura, per consultare il nostro materiale e poi anche per il prestito. Allora, come ha detto già la professoressa Bianchi, stiamo vivendo un periodo un po' particolare. Anche la biblioteca si è attrezzata in questo senso. Abbiamo anche noi la prenotazione obbligatoria per accedere ai servizi. Abbiamo predisposto una pagina web che spero adesso la collega vi faccia vedere. L'abbiamo chiamata in modo fantasioso fase 3. Vogliamo essere anche ben auguranti che non si ritorna alla fase 1. In questa fase 3 è una pagina quindi allestita per l'occasione, non è la pagina web della biblioteca, per cui trovate in modo diciamo ridotto e condensato quelle che sono le modalità per l'accesso ai servizi che sono stati attivati anche per l'occasione. Allora, innanzitutto vedete, sono elencati il servizio, c'è indicato l'orario che da oggi, questa è la novità, siamo aperti dalle 8.30 alle 19.30. Il modo per accedere è molto semplice perché abbiamo allestito un modulo online di prenotazione disponibile da questa pagina e sono due i moduli. Uno è dedicato al prestito per chi vuole accedere e prendere in prestito dei libri e in questo caso però dovrà fare la ricerca nel nostro catalogo che si chiama OneSearch, ma nessun pericolo. Noi siamo disponibili a aiutarvi a spiegarvi anche da lontano come si fa ad accedere al nostro catalogo. Abbiamo attivato anche una serie di servizi anche su Gmeet per guidarvi in queste prime volte, insomma perché siete nuovi e è tutta una novità. Poi un'altra caratteristica è il modulo di prenotazione e la sala lettura. Allora voglio rassicurarvi che per motivi, lo capirete, igienici, la postazione vi sarà assegnata per tutto il giorno. Questo implica che nel momento in cui avete la conferma della prenotazione saprete dove andare. La postazione è vostra per tutto il giorno, va bene? E quindi non dovrete, diciamo, non potrete cambiare la postazione ma avrete la certezza che nessun altro utilizzerà quella postazione. Quindi sono misure, capirete, eccezionali e intese anche a salvaguardare la vostra sicurezza, la vostra salute. e poi un'altra cosa è chiaramente, come vedrete, l'uso del dispositivo e quello della mascherina è obbligatorio anche in biblioteca e non ve la potrete togliere una volta entrati. e quindi igienizzerete le mani come farete anche quando entrerete in aula e così anche in biblioteca. E comunque non vi preoccupate, vi sarà descritto tutta qual è la procedura e la prassi. Allora, un'altra cosa è i contatti. La nostra biblioteca ha dei contatti a cui potrete chiedere per informazione, per esempio, il nostro account è frontofficebauma.unisi.it per cui per qualsiasi informazione potete rivolgere le richieste, le domande a questo account e potete visitarci anche, a parte la pagina che avete visto, ma noi siamo presenti, abbiamo anche la nostra pagina su Facebook, Biblioteca Area Umanistica Rezzo, Facebook, potrete visitare la nostra pagina. Allora, lì su Facebook troverete tutte le novità e anche gli eventi pubblicizzati che vengono via via organizzati dall'Università di Siena o anche da altri enti, o le novità sui nostri servizi. Poi c'è la pagina web che è Biblioteca Area Umanistica Rezzo, Unisi, e potrete visitarla e lì avere altre informazioni. Passo la parola alla collega che vi dirà due parole sull'archivio. Noi abbiamo appunto l'archivio, un patrimonio non indifferente. Vi rubo soltanto un attimo. Io mi occupo degli archivi storici. La nostra biblioteca è una delle poche a avere insieme al patrimonio bibliografico anche un patrimonio archivistico. È un patrimonio molto importante che presto imparerete a conoscere perché può darsi che venrete a trovarmi nel corso delle vostre lezioni, per esercitazioni, per le vostre tesi. Ora forse è un po' prematuro, però volevo ricordarvi una cosa. Nella nostra pagina Facebook, tutti i martedì, c'è un appuntamento dedicato al nostro archivio che si chiama Echi dal passato. Vi prego di seguirlo e vi invito a mettere mi piace alla nostra pagina. Grazie. Grazie mille per questa... che ovviamente voleva essere una sintesi abbastanza introduttiva. Per tutte le altre cose, ovviamente il personale della biblioteca è a vostra disposizione. Quindi potete scrivere una mail, potete telefonare. Esatto, quindi ecco... Esatto. Cerchiamo di rispondere a tutte le varie richieste di informazione. Allora, quindi passerei a questo punto alla presentazione del servizio dell'internazionalizzazione che è un servizio molto importante, soprattutto è un servizio nel quale l'Università di Siena crede fermamente perché l'Università di Siena è un'università che da tantissimi anni investe in quella che appunto è l'internazionale, quindi i rapporti con altre università, le convenzioni, gli accordi, non soltanto come ora vi dirà la collega Francesca Torlone delegata all'internazionalizzazione del Dipartimento, con i paesi dell'Europa, ma anche con diversi continenti. Quindi è anche questo un elemento che aggiunge valore e che riguarda soprattutto una risorsa nel percorso dello studente. Quindi ecco, anche per questo credo che sia importante presentare i servizi. Prego. Grazie Francesca, grazie a voi per essere qui, benvenuti a tutti. È con piacere che presento a voi brevemente questo servizio e le numerose attività che come Dipartimento di Scienze della Formazione stiamo portando avanti da tempo per potenziare i rapporti con l'estero, perché crediamo molto nel valore che soprattutto all'interno di un percorso universitario ha un'esperienza fatta fuori, perché voi potrete andare all'estero anche per altri motivi e anche con altre persone, ma l'esperienza di studio o di tirocinio ha un valore formativo tutto suo, tutto speciale, tutto suo particolare. Per cui cerchiamo di promuovere le mobilità di breve periodo o di lungo periodo a seconda delle vostre esigenze del vostro piano di studio e anche a seconda degli obiettivi che voi vi prefiggete di raggiungere rispetto nel corso dell'esperienza all'estero. Come diceva la collega, gli accordi che portiamo avanti con università sia europee che extraeuropee sono numerosi e cerchiamo ogni anno di incrementarli. Abbiamo accordi con tutti i paesi dell'Unione Europea, quelli più noti e desiderati dagli studenti, ma anche i paesi dell'est e i paesi meno attrattivi, ma che stiamo cercando di rendere attrattivi sia in termini di attività di offerta formativa sia in termini di durata. Perché anche lì dove la madrelingua non è l'inglese ci sono esperienze di ragazzi come voi che in passato hanno fatto esperienze di studio e di tirocinio, tutte positive. Tutti quelli che partono, perlomeno con cui ho rapporti nel ruolo di delegata, rientrano con il desiderio di continuare l'attività all'estero e il desiderio di costruire altri tipi di attività. Per esempio, dopo aver studiato all'estero, chiedono molti di tornare fuori per motivi di tirocinio. Così come ci sono accordi che abbiamo con paesi extra UE, Cina e Russia in primis. Il Dipartimento, sapete, grazie ai colleghi di lingue, ha una collaborazione molto stabile, profonda, solida e consolidata ormai da diversi anni con università cinesi, con cui svolgiamo diverse attività, sia anche qui, sia di studio che di tirocinio. Le possibilità che avete sono due. Mobilità fisica, che credo conosciate anche per passaparola tra voi studenti. L'Erasmus. In questo caso abbiamo ripreso a far partire i ragazzi che avevano fatto domanda di Erasmus durante la pandemia, perché le università ospitanti e i paesi di destinazione si sono detti disponibili e interessati a riattivare gli spostamenti e le mobilità tra i territori. Per cui molti sono in partenza o stanno per partire, altri hanno posticipato al secondo semestre, ma quindi la mobilità fisica sta piano piano gradualmente riprendendo, sempre nel rispetto della situazione pandemica. Per cui i paesi di destinazione, chiamiamoli pericolosi, sono attenzionati e ci informiamo sia il caso di partire o meno, a quali condizioni e con quali garanzie di sicurezza. Mentre negli altri, dove il pericolo è meno forte, perlomeno al momento, abbiamo rassicurazioni dai colleghi del paese di destinazione della possibilità di andare avanti con la mobilità o meno. Quindi state ripartendo, i vostri colleghi stanno ripartendo, sempre più entusiasti, soprattutto dopo questa pausa. mobilità fisica che potete fare sia per motivi di studio, quindi esami che vi vengono riconosciuti nel numero dei CFU quando rientrate, sia per motivi di tirocinio, l'Erasmus for traineeship. Quindi in questo caso, se chiunque è interessato a fare esperienze di mobilità all'estero per motivi di studio, deve rispondere a dei bandi che vengono pubblicizzati ciclicamente all'interno del Dipartimento. Poi quest'anno, ora, stiamo attivando una nuova esperienza di mobilità internazionale, i virtual exchange si chiamano, cioè gli scambi, le mobilità virtuali, proprio per darvi la possibilità, visto che l'esperienza internazionale è fortemente formativa da ogni punto di vista, darvi la possibilità di vivere in modalità virtuale, da remoto, a distanza, esperienze di aule internazionali. Per cui ci sono al momento quattro attività disponibili in cui ognuno di voi si può registrare. Stiamo cercando di diffondere l'informativa anche via web sul sito dell'internazionalizzazione che vedete alle mie spalle. Ci sono, dicevo, attività già programmate che la Commissione europea mette a disposizione e a cui possono iscriversi studenti e giovani di tutto il mondo, tutti i paesi sono rappresentati in piccoli gruppi che sono gestiti da facilitatori certificati della Commissione europea. Andate lì e parlate di topics, di argomenti di carattere trasversale molto legati all'intercultura e alla multicultura con i vostri colleghi di altri paesi. Sono organizzati molto bene questi gruppi di discussione, l'impegno che vi richiedono è un impegno serio, nel senso che c'è un programma con un numero di ore da effettuare con dei task, dei compiti da fare sia in gruppo sia a livello individuale, sempre a distanza. E poi anche questa attività di mobilità virtuale vi è riconosciuta all'interno degli insegnamenti con un numero di crediti che dipende da docente a docente. La lingua anche nella mobilità virtuale è prevalentemente l'inglese, ma ci sono classiche in cui le attività vengono svolte anche in francese e in arabo per chi è interessato. Quindi la mobilità virtuale è un primo passo verso l'internazionalizzazione, cioè una prima esperienza che consigliamo vivamente di fare, perché fisicamente rimanete a casa, virtualmente siete a contatto col mondo, quindi potete iniziare a sperimentare cosa vuol dire stare in un'aula con vostri pari che parlano un'altra lingua, cosa vuol dire dire il vostro pensiero in un'altra lingua, cosa vuol dire riportare quello che leggete, quello che sentite nei giornali in un'altra lingua e ascoltare quello che i vostri pari pensano rispetto a quell'argomento di discussione. Quindi in questo caso nella mobilità virtuale non ci sono bandi, siete voi che andate sui siti di queste attività corsuali organizzate dalla commissione e vi registrate, vi iscrivete d'accordo con il docente perché il docente poi vi riconosce l'attività all'interno del piano di studi. L'ultima cosa, c'è uno sportello di internazionalizzazione, cioè uno sportello che viene gestito dal collega San Giorgi in modalità virtuale, voi potete il martedì e il giovedì riceve dalle 11 alle 15, potete prenotare un incontro, un colloquio via WhatsApp, via email o via telefono e in rete trovate tutti i suoi riferimenti, potete prenotare un appuntamento e lui darà tutte le informazioni sia per le modalità fisiche sia per la mobilità virtuale. Perfetto, allora grazie anche per questa presentazione. Andrei avanti con la presentazione di altri servizi importanti. Allora partirei intanto con il punto inclusione, quindi chiamerei Alessandra Romano, Michela Mariottini, perché questo dipartimento è un dipartimento che da tantissimi anni crede anche nelle forme di supporto, di sostegno per forme di disabilità, da quelle diciamo meno più leggere fino a quelle più gravi. E quindi è un servizio a cui noi crediamo molto e proprio per questo quindi è bene presentarlo fra i servizi che questo dipartimento offre agli studenti. Prego. Sì, buongiorno a tutti, io sono Michela Mariottini e mi occupo del servizio per studenti con disabilità e con dislessia. La professoressa Romano è la referente della commissione inclusione del dipartimento. Questo servizio è un servizio che è rivolto ai studenti con certificazioni di SA e con certificazioni legge 104 o in validità. Al servizio si può accedere quindi grazie alla presenza delle certificazioni in corso di validità. Il dipartimento è molto attento alle necessità e alle richieste di studenti che hanno queste difficoltà e il servizio è diciamo costruito proprio sulla base delle certificazioni e sulla base delle necessità di questi studenti. Quindi se conoscete o se conoscete ragazzi o ragazze che hanno certificazioni di SA o di invalidità potete dir loro di rivolgersi a noi. I nostri contatti sono tutti presenti sul sito del dipartimento, ci potete contattare telefonicamente per email, abbiamo anche un google form in cui voi potete inserire direttamente le vostre richieste per chiedere un appuntamento. Gli appuntamenti si possono avere sia in presenza che online, quindi se non potete venire direttamente in dipartimento potete avere una MIP direttamente con noi in modo che possiamo aiutarvi. Il nostro tipo di aiuto è diciamo un supporto, un potenziamento ecco, noi vi possiamo aiutare sia per quanto riguarda quelle che sono le difficoltà amministrative soprattutto di uno studente che si immatricola, che non conosce l'università, che non conosce come funzionano le lezioni oppure che non riesce a concludere le immatricolazioni oppure ecco un supporto più specifico proprio al momento in cui lo studente deve iniziare a studiare. Quindi noi possiamo dare un supporto attraverso la presenza di un tutor, attualmente il tutor è uno studente alla pari, che a distanza vi può aiutare nello studio. Oppure se avete determinate difficoltà per esempio nel metodo di studio vi possiamo dare dei suggerimenti e vi possiamo dare anche in comodato d'uso dei programmi specifici per l'apprendimento. Inoltre altri servizi che possiamo offrire per esempio a studenti con invalidità, invalidità emotore, sono l'accompagnamento in aula, a lezione, essere accompagnati per poter partecipare attivamente alla vita dell'università. La professoressa Bianchi vi fa vedere il sito, voi potete fare riferimento alla pagina web presente sul Dipartimento per qualsiasi informazione. Noi la aggiorniamo in continuazione con questa pagina web in modo che tutti i servizi siano continuamente aggiornati proprio a causa dell'emergenza sanitaria, li abbiamo dovuti modificare. Anche perché noi all'interno del Campus Lab abbiamo anche un luogo fisico dove gli studenti si possono incontrare con i tutor, dove possono avere accesso a dei computer dove sono presenti i programmi specifici e c'è una stampante a colori e dove possono studiare in tranquillità e costruire anche un proprio metodo di studio valido. In qualità appunto di referente per l'inclusione del Dipartimento, per noi la piena partecipazione, la partecipazione attiva alla comunità studentesca è una nostra caratteristica fondamentale, investiamo tanto in questo coinvolgimento degli studenti e nell'essere al servizio degli studenti e questo vale ancora di più nel caso in cui possono esserci degli studenti o delle studentesse che incontrano qualche difficoltà. Quindi come comunità di docenti, come intera comunità del Dipartimento siamo al servizio e teniamo molto affinché si costruisca una comunità che sia accessibile, pienamente partecipativa e in grado di accompagnarvi in questo percorso fino al raggiungimento dei vostri obiettivi. Perfetto, quindi grazie. A questo punto il quadro piano piano diventa, spero, sempre più chiaro. Quindi ringrazio la collega e Michela e a questo punto chiamerei Renz Adatti per presentare il servizio, diciamo, cosiddetto DSU prego, si accomodi pure. Cioè esiste il, appunto, prima ne abbiamo fatto riferimento nella presentazione, il diritto allo studio universitario che è fatto di tante componenti e quindi Renz Adatti è qui proprio per presentarvi le opportunità che il servizio della regione toscana mette a disposizione, appunto, degli studenti. Sì, certo. Allora, posso andare io? Sì, sì, sì. Intanto le do. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Renz Adatti, appunto, professoressa Bianchi del diritto allo studio universitario. Il nostro servizio, la nostra azienda, che è un'azienda regionale, offre quei servizi di supporto agli studenti che frequentano l'università. Per permettergli, appunto, di vivere anche la vita universitaria un attimino più semplice. No, no, faccia direttamente. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, di nuovo, torno a dirvi di annotarvi possibili domande perché fra poco vi daremo anche un po' di tempo per intervenire. Stiamo per finire la prima parte delle presentazioni. Prego, eccoci. Buongiorno. Allora, vi dicevo, i nostri servizi vogliono essere di supporto e di aiuto agli studenti che possano permettere la vita universitaria un attimino più semplice. Soprattutto sono anche di notevole aiuto per le famiglie e per permettere a tutti gli studenti, anche quelli che sono meno agevolati da un punto di... Non si sente? Scusate. Allora, queste sono le finalità e quello di offrire a tutti gli studenti la possibilità di accedere anche ad alti livelli degli studi e fornendogli anche le opportunità di arricchimento di formazione culturale e facilitando il loro ingresso proprio nei momenti culturali veri e propri. Allora, uno dei servizi essenziali che vi trovate a volere chiedere agli studenti che vorrete chiedere e trovare all'interno dell'università è sicuramente la mensa che è uno di quei servizi che tutti ci tengono. Allora, per quanto riguarda la mensa universitaria, il DSU Toscana ha delle mense dirette e delle mense convenzionate. Ora, per l'appunto ad Arezzo, non abbiamo mense dirette, ma al momento abbiamo solo una mensa convenzionata che è questa qui del bar del Pionta. Come si accede? Attualmente si accede con il badge universitario che per i primi anni vi viene dato, il primo anno viene dato e rilasciato dall'università. Nel caso in cui uno studente ne avesse bisogno successivamente dovrà richiederlo espressamente al servizio ristorazione di Siena in questo caso. Poi, ecco un'altra cosa, speriamo che in questo periodo di lockdown abbiamo avuto dei problemi con la mensa dell'ospedale, quindi è momentaneamente chiuso, speriamo che la possano riaprire. Praticamente ci sono delle tariffe per accedere alla mensa che varia a seconda della vostra dichiarazione ESEE. Ora, chi è vincitore di borsa di studio, ora vi dirò che cos'è chi ha fatto domanda di borsa di studio e poi vi spiego un attimino che cosa, ha diritto, a seconda sia in sede, fuori sede e pendolare, ha diritto al pasto gratuito, mentre invece poi vedremo che cosa significa accedere con le altre tariffe. Basta che posso far vedere un attimo, vorrei farvi vedere un attimo i servizi, servizio ristorazione, ecco sul nostro sito, ci sono? Potete andare, qui vengono descritti un po' tutti i servizi, qui nella parte sopra vengono descritti tutti i servizi in generale, ma qui di lato, sulla destra, trovate proprio le novità che afferiscono per esempio quelle che sono le novità che ci sono per esempio sulle borse di studio, perché la borsa di studio è un altro beneficio di carattere, di un intervento monetario che viene dato sulla base delle domande, che deve essere fatta. Come vedete qui c'è una pagina dedicata alla borsa di studio come avviene e c'è un bando. Allora una cosa che vi posso ricordare è che il bando viene pubblicato ogni anno verso luglio, i primi di luglio, con scadenza fine agosto. Questo è importante, che gli studenti possano prendere già visione del bando, perché dal bando si permette, si dà la possibilità allo studente, anche se non è ancora iscritto, di iscriversi, perché tanto noi vi mettiamo in attesa di iscrizione. Allora, in che cosa consiste la borsa di studio, che è un intervento monetario a domanda? La borsa di studio significa avere una quota monetaria che varia sulla base della vostra ISEE, del vostro parametro ISEE. Tra l'altro considerate che ci sono dei parametri per poter accedere alle borse di studio, scusate non sono capace. La mascherina è micidiale, scusate. Praticamente, occorre avere determinati parametri che sono stabiliti sul bando e che ogni anno voi potete andare a vedere sul bando. Poi vi dà la possibilità di avere questa quota monetaria, vi dà la possibilità di essere esenti dalle tasse, dalle tasse universitarie, e quindi anche dalla tassa regionale. in più avete la possibilità anche di avere il servizio mensa gratuito e il servizio alloggio nel caso in cui uno studente è fuori sede e avete bisogno appunto di ricevere anche un alloggio. Nel caso in cui ci fosse indisponibilità di posti, potete richiedere anche il contributo affitto. Questo per quanto riguarda la borsa di studio e più un'altra cosa importante della borsa di studio è che la borsa di studio offre un'integrazione monetaria alla borsa di studio per coloro i quali frequentano il programma di mobilità internazionale, è quel programma del quale parlava la dottoressa prima. E questo appunto vi permette di avere una buona fruizione ed è un buono scambio culturale che è importantissimo. Inoltre, ecco mi raccomando, sulle borse di studio attenzioni alle scadenze. Ogni anno va ripresentata la domanda di borsa di studio e occorrono chiaramente questi parametri di reddito, patrimonio e merito universitario. Quella di quest'anno per intendersi è già scaduta? Sì, è già scaduta. Purtroppo è scaduta, però potrebbero esserci altre iniziative di finanziamento che potrebbero uscire, per esempio l'anno scorso, in via del tutto eccezionale, uscì un altro tipo di bando a dicembre. Però non è detto che avvenga quest'anno. Quindi noi vi invitiamo a tutti quanti, ora voi magari siete già iscritti, ma a tenere sempre d'occhio il nostro sito, perché sul nostro sito potete avere delle notizie, delle informazioni che magari potrebbero uscire anche all'ultimo momento. E questo è uno dei tipi degli interventi monetari. Quindi voi quando andate sul sito, vedete sulle borse di studio, come vi abbiamo detto, e potete vedere quelli che sono le possibilità. Più c'è anche la possibilità di avere altri benefici e dei contributi, per esempio per gli studenti disabili. E questi sono sempre su domanda, mi raccomando, va sempre fatta la domanda. In più poi ci sono dei contributi per i tirocini e curricolari, che sono dei finanziamenti che vengono praticamente sulla base del Fondo Sociale Europeo. E anche ci sono sempre dei voucher per l'alta formazione, per chi vuole proseguire negli studi tipo i master o dei percorsi universitari superiori. E questo per quanto riguarda i benefici a carattere di intervento monetario. Abbiamo detto la mensa, la mensa, www.adeensigademia.com Grazie. 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 Volevo farvi vedere, almeno qui vi dice come accedere, vi ho detto attraverso questo badge e poi sempre potete avere la tariffa mensa su base ISEE, nel caso in cui uno studente non ha fatto la domanda di borsa di studio oppure non ha fatto neanche la richiesta di riduzione delle tasse, magari ha presentato l'ISEE ma può avere una tariffa ridotta su base ISEE. Allora questo potete andare sul nostro sito e poi c'è proprio la possibilità di iscriversi per poter avere la tariffa agevolata su base ISEE, chiaramente dovete avere con voi l'ISEE, queste sono le varie fasce di prezzo che dovrete poi effettivamente pagare quando andate a mensa. Poi sono aperte a tutti gli studenti universitari e poi un'altra cosa, con il badge della tessera studente della Toscana potete accedere a tutte le menze degli Atenei Toscani, questo è importante. Poi ci sono quei tipi di servizi che riguardano anche, che so io lo sport, sono di supporto con il SIOS per favorire delle attività sportive all'interno degli Atenei, questo potrebbe anche riguardarvi. Oppure ci possono essere delle iniziative, dei contributi per i gruppi studenteschi o delle associazioni studentesse che presentano dei progetti culturali da poter anche intervenire all'interno della città e potreste avere anche dei finanziamenti. E questi sono alcuni tipi di finanziamenti che vi vengono erogati. Però io ecco quello che mi sento di raccomandarvi è di controllare sempre bene il sito. E poi un'altra cosa che forse è un po', che poi magari potrebbe sembrare strivola, ma io vi consiglio sempre anche di andare a consultare la carta dei servizi. Perché sulla carta dei servizi sono indicati, vengono riportati gli indici di qualità che il DSU eroga nei servizi, che almeno dovrebbe rispettare. Se voi vi rendete conto che non sono stati rispettati questi tipi di indicatori, potrete anche praticamente denunciare questa cosa facendo un'esplicita richiesta e vi verranno dati poi dei rimborsi in questo senso, ma che si tratta magari di tre cestini, yogurt, eccetera. Comunque praticamente questa qui che poi potete trovare tranquillamente sul nostro sito. Qui c'è la carta dei servizi e più abbiamo un consiglio territoriale degli studenti ai quali vi potete fare riferimento quando voi avete bisogno di presentare le vostre istanze. Dove si trova? Perché questo mi sembra molto utile come servizio. Questo riferimento agli studenti chiedevo. Sì, no, infatti anche perché è importante sottolinearlo questo perché noi riceviamo, almeno io come docente delegato all'orientamento, diverse richieste di supporto e di aiuto proprio per il diritto allo studio. E allora credo che sia davvero una cosa molto importante quella di poter anche usufruire di un supporto da pari a pari, quindi anche tra studenti. Allora proprio per questo il sito fra l'altro mi sembra molto migliorato, molto potenziato. Quindi ecco, usufruite anche di questi servizi informativi. Ecco, il consiglio territoriale degli studenti. Ai quali potete fare riferimento e mettervi in contatto e magari creare anche tra di voi un gruppo. Tra l'altro a me risulta che c'è un gruppo di ragazzi che stanno già affrontando questa situazione. Va bene, poi ecco i contatti. Velocemente, scusate se sono... Allora, torniamo un attimo. Sì, i contatti mi interessano. Quando voi avete qualcosa da chiedere potete contattarci attraverso il format Contattaci. Dovete riempire praticamente questo format e poi vi risponderemo. Perché praticamente per prendere un appuntamento, per andare direttamente negli sportelli degli interventi monetari soprattutto è necessario che voi prendiate un appuntamento. E quindi magari anche per poter avere la risposta a certe problematiche affidatevi sempre a Contattaci oppure ci potete telefonare anche al numero unico che è il centralino unico della Toscana che è 055 23 47 200. Oppure ci potete trovare sui canali social. Va bene? Facebook, eccetera. E poi tra l'altro c'è la residenza dove si dà la possibilità agli studenti che sono vincitori di borsa di studio di accedere anche al posto alloggio. Quindi anche il posto alloggio è importante. Fra l'altro, io oltre a ringraziare Renza, no no, perché capite, abbiamo voluto fra l'altro sottolineare particolarmente il DSU perché è un supporto importante per gli studenti da tanti punti di vista. Allora proprio per questo, ringraziando Renza, ne approfitto per dare un'altra informazione. Noi stiamo, questo grazie all'Ateneo, cercando di potenziare i servizi per Arezzo a cui voi arrivate anche attraverso il sito orientarsi.it e lì ci sono tre sezioni, vivere a Siena, vivere ad Arezzo, vivere a Grosseto e quindi anche per questo ci sono e ci saranno sempre di più tutta una serie di iniziative, di attività, anche di informazioni utili per l'alloggio, per la vita culturale, insomma, quindi ecco anche su questo è un qualche cosa che noi abbiamo cominciato a costruire, siamo all'inizio ma insomma speriamo di continuare. Quindi anche da questo punto di vista credo che sia importante anche per voi poter contare su questi servizi. Bene, allora, l'ultimo servizio che vogliamo presentarvi è quello della segreteria studenti, ultimo ma non per importanza, anzi chiedo, grazie a lei Renza di nuovo e chiamo Maria Rosaria Filippini che è una delle risorse della segreteria studenti vedrete un luogo, un servizio che piano piano, forse alcuni di voi già l'hanno conosciuta ma piano piano, insomma, penso che sempre di più conoscerete insomma il personale della segreteria vuole illustrarvi alcune informazioni utili sia, diciamo, in generale che anche però legati al particolare momento contingente. Quindi do la parola a Rosaria, grazie. Grazie professoressa, buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Maria Rosaria Filippini e lavoro presso l'ufficio studente didattica di questo dipartimento. L'ufficio studente didattica è l'ufficio che si occupa principalmente della carriera dello studente dall'immatricolazione fino al conseguimento del titolo. I nostri servizi infatti sono quelli relativi alla carriera dello studente immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti, supporto alle procedure dei piani di studio al conferimento delle certificazioni dei titoli finali e anche della determinazione della contribuzione universitaria. È proprio su questo che oggi ci soffermeremo, cioè sulle agevolazioni economiche dell'Ateneo. Vi ricordo che le immatricolazioni scadranno il 2 di novembre. La procedura è interamente online e tutte le informazioni sulla procedura, sui pagamenti, sulle tempistiche sono riportate all'interno del manifesto agli studi che è pubblicato sul sito dell'Ateneo. Cos'è il manifesto agli studi? È un documento che ripercorre quelle che sono tutte le norme di matricolazione, di iscrizione e dove è elencata anche l'offerta formativa dell'Ateneo. Il pagamento del contributo universitario è suddiviso fino a un massimo di 4 rate. La tassa del diritto allo studio universitario e il bollo virtuale vengono addebitati interamente sull'importo della prima rata. Vi consigliamo a tutti di utilizzare il simulatore per il calcolo delle tasse in modo tale che a priori potete già sapere non solo il numero delle rate ma anche l'importo di ciascuna rata. L'attestazione ISEE è quella che occorre per permettere di accedere alle riduzioni del contributo onnicomprensivo. L'ISEE è quello valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio. Quindi lo studente cosa deve fare? Dovrà essere rilasciata l'attestazione ISEE 2020 ovvero quella con scadenza 31 dicembre 2020 valida per prestazioni agevolate per il diritto allo studio. Durante la procedura online lo studente non deve fare altro ovviamente la procedura online di immatricolazione lo studente non deve fare altro che autorizzare l'università ad acquisire l'indicatore ISEE dalla banca dati IMSS. Quindi se l'attestazione che lo studente non è stata ancora richiesta o rilasciata all'inizio vedrete l'importo massimo delle rate. Appena acquisita il valore ISEE ci sarà la rideterminazione della contribuzione universitaria. È ovvio che chi non vuole inserire dati ISEE è consapevole che rientra nella contribuzione massima prevista. Il dato è modificabile fino al pagamento dell'importo della prima rata. Va bene? Detto questo la prima rata si paga al momento dell'iscrizione o comunque per le immatricolazioni entro il 2 di novembre. La seconda rata è il 21 di dicembre, la terza rata il primo di marzo 2021 e la quarta rata entro il 3 maggio. Nella segreteria studenti online potete comunque verificare nella sezione dei pagamenti quello che è l'elenco delle tasse, l'anno accademico di riferimento, la situazione delle tasse pagate, non pagate e il relativo importo. Vi ricordo anche che ai pagamenti effettuati in ritardo vengono applicate delle maggiorazioni, le cosiddette moree, va bene? E si va da un minimo di 10 euro per i pagamenti effettuati entro il 14esimo giorno successivo a quello di scadenza fino ad arrivare a un massimo di 100 euro per i pagamenti effettuati a partire dal 31esimo giorno. Detto questo, il sistema di pagamento, quello che l'università ha adottato è quello del sistema Pagopà che consente di farlo immediatamente in maniera differita con la stampa dell'avviso per Pagopà. Per rispondere al periodo di crisi dato dall'emergenza Covid, l'Unisi, l'Università di Siena, ha innalzato la fascia di esenzione delle tasse e ha aumentato le agevolazioni sulla contribuzione studentesca. Quindi c'è stato un innalzamento della no tax area, ovvero con il regolamento tasse per l'anno accademico 2021 sono state introdotte delle novità. La no tax area è stata innalzata fino a 22.000 euro. La no tax area è stata innalzata fino a 22.000 euro e questo significa che gli studenti che appartengono a nuclei familiari con un'Ise fino a 22.000 euro sono esonerati dal pagamento delle tasse, ovviamente fatta eccezione della tassa regionale e del bollo virtuale. E consistenti riduzioni ci sono anche nelle fasce di Ise tra 22.000 e 30.000 euro. Altra cosa molto importante, un altro intervento dell'Ateneo è il Fondo di Solidarietà per il sostegno allo studio ed è destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporane ma adeguatamente documentate. E la seconda scadenza è prevista adesso per il 16 di novembre. Le domande si presentano esclusivamente online, sempre nella sezione segreteria online, incentivi, premi di studi e borse. Il bando è consultabile nell'albo online all'indirizzo www.unisi.it.it e per ogni informazione è possibile contattare l'ufficio borse incentivi allo studio all'indirizzo fondo di solidarietà chiocciola.unisi.it. Altre agevolazioni, il regolamento TAS prevede a favore degli studenti agevolazione zone riparziali nei casi di studenti con disabilità, borsisti del governo, rifugiati politici, studenti in regime di detenzione, studenti ultra sessantenni, studenti dipendenti dell'Ateneo e dell'azienda ospedaliera universitaria sinese. Ricordatevi inoltre che per gli studenti capaci e meritevoli l'Ateneo mette anche a disposizione, favorisce, bandisce annualmente assegni per attività di tutorato, compensi per attività di collaborazione part time. Quindi guardate il sito perché questo normalmente viene messo in evidenza. Nell'ambito di un progetto mirato a facilitare e migliorare anche l'uso di strumenti didattici multimediali, l'Università di Siena quest'anno offre ai suoi studenti un bonus per l'acquisto di PC, notebook e tablet. Il bonus avrà un importo variabile da 100-200 euro e sarà corrisposto a titolo di contributo sui costi già sostenuti per l'acquisto di uno di questi strumenti informatici che ora vi ho detto. A chi è destinato? È destinato a coloro che entro il 30 settembre e si siano immatricolate a un corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale e iscritti agli anni successivi, al primo di qualsiasi corso di laurea. E questi studenti possono presentare la domanda fino alle ore 12 del 30 di settembre. Sarà riaperto anche, è già scritto sul sito, fino al 30 di ottobre, ma è destinato ad altre categorie di corsi di studio, non queste, va bene, non le nostre. Come presentare domanda? Per ottenere il bonus è sempre tramite l'area riservata con l'accesso con le credenziali Unisi nella sezione incentivi. E per altre informazioni vi potete rivolgere all'ufficio orientamento e tutorato, all'indirizzo orientamento chiocciolaunisi.it Per quanto riguarda la contribuzione vi ho dato una mappatura diciamo piuttosto generale. Per qualsiasi cosa potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica che è didattica.dsfusi.chiocciolaunisi.it oppure se volete si glielo fai vedere tra l'altro lo trovate nel sito del dipartimento sotto diverse voci www.unisi.it sotto il link della didattica uffici studenti didattica ufficio studenti didattica scienza della formazione scienza umana e della comunicazione interculturale qui trovate i nostri indirizzi trovate i nostri orari di apertura al pubblico sia in presenza su appuntamento sia in G-meet vi ricordo che il nostro sportello telefonico è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12 e alle ore 13 quindi per qualsiasi cosa noi ci siamo un'ultima cosa che non riguarda le tasse ma un vostro adempimento da qui a breve dal 20 ottobre al 13 di novembre c'è la presentazione online dei piani di studio c'è un'apposita pagina dedicata dove potete avere le informazioni su come si compila e in fondo anche le istruzioni fatto salvo che noi ci siamo insomma va bene allora abbiamo già intanto io ringrazio Maria Rosaria perché no 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 ma non te ne andare la ringrazio perché insomma poi vi rendete conto una sereteria didattica deve come dire rispondere a mille domande diverse tante sono giustamente anche le esigenze degli studenti quindi abbiate anche un po' di pazienza e anche dei docenti perché naturalmente la sereteria non è soltanto una sereteria studenti ma è anche una sereteria che gestisce la didattica insieme ai docenti prima di lasciare Rosaria volevo approfittare della sua presenza perché a questo punto devo dire che abbiamo finito con la prima parte della presentazione e quindi possiamo iniziare fra un pochino la presentazione dei due corsi di laurea triennali però alcuni studenti in effetti stanno già in chat ponendo delle domande che credo siano importanti anche per Maria Rosaria e poi ovviamente do anche a voi naturalmente il microfono allora per esempio intanto è stato scritto abbiamo mandato una mail alla sereteria io li ho invitati ad avere un po' di pazienza perché comunque intanto lo torno a dire è essenziale mandare i messaggi le mail dall'indirizzo di posta istituzionale quindi chi ce l'ha benissimo lo usi chi invece deve ancora prendere questo indirizzo cerchi di averlo al più presto e quindi poi a quel punto lo userà e non solo questo ma è stato chiesto appunto lì vedi anche le domande io avrei bisogno di contattare la segreteria didattica per aver risposta al modulo di riconoscimento crediti questa persona presumibilmente ha una carriera alle spalle a fronte della quale ha chiesto un riconoscimento di crediti per la sua attuale carriera queste pratiche vengono trasmesse ad un organo collegiale che è composto da in rappresentanza paritetica docenti studenti e finché i docenti dopo l'adunanza non mandano un verbale ufficiale non possiamo dar seguito dando una comunicazione ufficiale che normalmente viene fatta tramite e-mail quindi la signorina finché non avrò il verbale siglato dai professori non posso dar seguito alla sua richiesta ma nei 30 giorni dalla sua richiesta sicuramente le verrà risposto io vorrei sapere se è possibile studiare a distanza devo contattare la segreteria no abbiamo detto all'inizio che basta entrare nella pagina del docente viene data un link di accesso e potranno seguire anche a distanza per le lezioni online nella pagina di ogni docente e cliccare entrare dentro appunto il profilo di ogni docente del dipartimento avete visto cliccare sulla destra lezioni a distanza ogni docente ha proprio questa va bene però poi c'era mi pare qualcuno vabbè il bonus pc è necessario che faccia riferimento a qualsiasi chiarimento all'ufficio orientamento chiocciolaunisi.it e gettisce questo ufficio il bonus e comunque è scritto tutto nel bando che è pubblicato anche in orientarsi punto unisi c'è tanta roba perché ci sono anche che riguardano altri di per tanto il nostro e per insomma per esempio quando io prima vi parlavo dei possibili servizi che erano applicati all'evento chi trovate per esempio orientamento ecco quello che dicevo prima era vivo vivo questa è una parte una sezione del sito che stiamo finalmente arrivando a completare la parte vive ad Arezzo sarà molto importante perché qui dovrete uscire a trovare tutta una serie di servizi importanti come dicevo prima possibili informazioni legate all'alloggio il forcorano non so se per questo Anna Caremico ce la facciamo qualcosa c'è ma non tanto ma la nostra il nostro obiettivo è quello di implementarlo la vita culturale del resto i servizi sportivi abbiamo una convenzione con il CUS per cui ora questo è un momento di nuovo in cui si ricomincia a parlare anche di attività sportive ma l'anno scorso c'è stata proprio la possibilità di praticare delle attività sportive a due passi perché c'era proprio la possibilità di avere una palestra a disposizione ecco questo è il sito orientarsi allora si sente male avete ragione si sente male forse ora si sente meglio e appunto però ora dovreste vedere credo anche chi è collegato a distanza il sito orientarsi abbiamo sostanzialmente mostrato questo ritorniamo un attimo alle domande quindi il sito orientarsi ve l'ho mostrato orientarsi unis.unis.it è il sito che raccoglie informazioni non soltanto legate alla didattica ma informazione anche sui servizi di nuovo ripeto non solo di questo dipartimento ma anche degli altri dipartimenti dell'Ateneo però diciamo può essere utile quando un pochino avete iniziato a navigare anche riuscire a consultare servizi utili che l'Ateneo mette a disposizione ci sono altre domande per partecipare in presenza bisogna prenotare no al momento non bisogna prenotare e quindi gli studenti sostanzialmente decidono in autonomia se venire qui fisicamente nel campus avete visto stamani in un certo senso abbiamo fatto una simulazione anche se eravate tutti concentrati in questa palazzina donne da domani sarete invece in qualche modo distribuiti tra le diverse palazzine però chi vuole può rimanere frequentare appunto a distanza quindi sono possibili le due modalità le lezioni saranno sempre registrate allora anche questa è una domanda abbastanza difficile a cui è difficile rispondere allora i docenti hanno a disposizione per ora mi pare due o tre piattaforme e la registrazione per esempio stamattina noi stiamo registrando questa presentazione e quindi su Google Meet dovrebbe essere possibile registrare ma non sappiamo se come dire anche nelle prossime settimane potremo continuare la registrazione altrimenti su WebEx che è un'altra piattaforma sarà possibile però devo anche aggiungere come ulteriore servizio di supporto che i docenti utilizzano di solito Moodle non so se conoscete la parola insomma è una piattaforma che in questa università fra l'altro si utilizza ben prima che ci fosse la pandemia quindi non è che è qualcosa di nuovo perché c'è stato l'evento covid e Moodle rappresenta uno strumento importante che ogni docente di solito utilizza per erogare materiale di supporto che potrebbero essere slide potrebbero essere appunto nel secondo semestre dello scorso anno accademico molti di noi hanno appunto fatto lezione e collocato lì anche le registrazioni delle lezioni quindi ecco queste piattaforme a cui si accede tranquillamente basta ovviamente collegarsi e soprattutto sentire il docente insomma scrivere al docente e ecco quindi questa piattaforma è una piattaforma dove voi trovate ulteriore materiale utile per il corso insomma per l'insegnamento che seguite altre domande intanto io sto guardando le domande qui nella chat però se anche qualcuno di voi adesso avesse domande magari alterniamo un po' chat e un po' domande in presenza quindi ecco non so se c'è anche qualcuno di voi che ha qualche curiosità in cui lo studente mi chiede dove trovo la lista dei libri di testo dove in quale cartolibreria o così normalmente tutti i professori hanno un proprio syllabus degli insegnamenti dove in fondo in appendice ci sono i libri di testo che verranno utilizzati durante il corso fatto salvo che normalmente il docente il primo giorno che entra in aula illustra il proprio programma e illustra anche quali sono i testi che verranno adottati altre domande dell'orario delle lezioni come avete visto è pubblicato nel nostro calendario didattico secondo il vostro piano di studio voi avrete degli insegnamenti se qui in plateo tutte persone del primo anno sia di un corso che dell'altro degli insegnamenti obbligatori e degli insegnamenti opzionali nel momento in cui voi già sapete presumibilmente quello che vorrete scegliere nell'opzione lo dovrete poi semplicemente formalizzare con la presentazione del piano di studio presentazione online non c'è più niente in cartaceo scusate qualcuno chiedeva delle lezioni a distanza mi pare cioè ci sono ancora dubbi su come si fa ad accedere alle lezioni online diciamolo una volta per tutte cioè avete ancora dei dubbi allora almeno in chat hanno dei dubbi non so se qui in presenza i dubbi non ci sono dovete entrare nella pagina docente lo rimostro perché l'avevamo mostrato prima allora sì sì infatti vediamo se adesso però allora dovreste vedere ho messo il mio profilo e trovate nel profilo lezioni a distanza torno indietro così forse è ancora più chiaro il processo siamo nella home page del dipartimento e quindi qui dovete andare aprire diciamo il menu a tendina quindi davvero anche questa è una raccomandazione con cui possiamo avviarci verso la conclusione della prima parte della mattinata cioè vi inviterei davvero a prendere dimestichezza con questo sito ad aprire le tendine perché davvero abbiamo cercato di inserire tutti i contenuti utili per uno studente proprio per lasciarvi anche rendervi in grado di muovervi autonomamente il più possibile perché anche questo fa parte della crescita di ognuno di voi ecco dentro la tendina la parte della sezione del dipartimento docenti qui trovate tutto l'elenco dei docenti del dipartimento come vedete e poi c'è anche una sezione docenti a contratto perché a parte i docenti strutturati che afferiscono al dipartimento ci sono alcuni insegnamenti che vengono come dire messi a bando e quindi poi per esempio per questo primo semestre già ci sono dei bandi aperti e poi appunto i docenti che verranno in qualche modo incaricati quindi troverete anche lì queste informazioni però ecco qui trovate quindi l'elenco dei docenti per ogni docente pensiamo al direttore per Dinando Abri lezioni a distanza quindi nella sezione rosa c'è sempre questa indicazione dovete andarla a cercare se cliccate vi trovate nella situazione in cui siamo stamani cioè voi siete entrati nel mio nella mia stanza virtuale altre domande curiosità sì buongiorno volevo sapere se sempre su questa pagina se scorro ci dovrebbero essere anche i testi che forniscono i professori la vita didattica del professor Abri provate vedete la filosofia e qui se io apro trovo il che fa ok aspetta, aspetta perché se no non sentono, vai dall'home page di Sfushi, servizi servizi per gli studenti segreteria studenti online questa la dovreste conoscere abbastanza bene per chi ha già fatto l'iscrizione perché in alto a sinistra vedete avete il login dove entrate nella vostra area riservata invece dall'area pubblica andando a metà pagina più o meno troverete ricerca e insegnamenti noi oggi vogliamo cercare si può fare una ricerca filtrando ma se io voglio sapere la professoressa Francesca Bianchi cosa insegna? la professoressa insegna questo andiamo su sociologia generale questo è quello erogato per lingue ecco qui ecco qui il syllabus vediamo perché su Milt non lo stanno vedendo ah scusa non ti preoccupare allora aspetta c'era quello è tutto chiaro? se no lo rifaccio allora dove siamo? no non trovo dove era il mio dove sei? ero qui da online ecco ora dovreste se volete lo rifacciamo rifallo rifallo perché questo rifallo perché questo perfetto punto di partenza segreteria studenti online noi facciamo una eccola qui una ricerca con un filtro che può essere fatto per dipartimento per docente per settore scientifico disciplinare per insegnamento proviamo a farlo per insegnamento io so che devo sostenere l'esame di sociologia generale devo frequentare o nel piano di studio sociologia generale questo quindi sarebbe meglio farlo anziché con tutti i dipartimenti perché se no qui viene estrapolata tutta l'offerta dell'Ateneo lo facciamo per il nostro dipartimento cerca eccolo qua sociologia generale sotto c'è il nome del professore dove non compare ancora il nome del professore vuol dire che è un docente a contratto e molto probabilmente ci sono ancora in fase di espletamento le procedure concorsuali va bene? facciamo io di quello di Sef che è da 12 così così se ne rendono con poi abbiamo due domande importanti mi da sempre quello di lingue comunque sia il principio è lo stesso nel pdf volendo vi potete stampare anche i contenuti del corso allora apri giustamente i prerequisiti i contenuti del corso i metodi didattici del docente la verifica dell'apprendimento vedete come vi dicevo prima i testi di riferimento ecco è qui proprio sui testi allora se la procedura è chiara c'è una domanda in chat riguardo i testi tanti nelle chat dicevano di aspettare i docenti alla prima lezione perché non molto attendibile in quanto potrebbero decidere di usare altre fonti allora questa è una domanda che un pochino mi indispettisce nel senso che chi ha posto la domanda ha fatto benissimo a porla quindi la ringrazio Cristina per aver posto questa domanda diciamo che nel momento in cui i docenti inseriscono il syllabus nella sereteria online nel senso che compilano il programma dell'insegnamento e quindi inseriscono anche i testi quello è il programma che vale lo dico perché anche un po' polemicamente perché insomma chi parla io per prima non possiamo mettere indicare un programma e poi decidere che lo cambiamo perché siamo un po' stufi e allora vogliamo cambiare ma guarda un po' non è possibile nel momento in cui inizia l'anno accademico il programma quello è e vi dirò di più che se voi come dire preparate l'esame su quel programma e quindi studiando determinati testi e poi andate all'esame e magari il docente vi dice eh no non è questo il programma in teoria voi avete diritto a fare l'esame punto però l'accortezza che vi chiedo è guardate l'anno accademico di riferimento questo sì cioè i sillabi e questa è una cosa che a volte sfugge indicano l'anno accademico facciamo il mio caso per un insegnamento che io tengo alla magistrale l'anno scorso io avevo due testi di riferimento per quest'anno io ne ho cambiato uno dei due allora lo studente che si iscrive quest'anno sociologia eh delle disuguaglianze è un corso specialistico del primo anno chi si iscrive appunto alla specialistica quest'anno deve guardare all'anno di questo programma eh scusate al programma di questo anno accademico eh perché appunto uno dei due libri è cambiato quindi da parte vostra dovete un po' stare attenti e a seguire per ogni anno il programma giusto ma anche su questo voglio essere eh completa cioè non è che il docente si diverte a cambiare i testi perché così sbaraglia le carte e rende la vita difficile allo studente è che ovviamente su determinati temi le questioni che noi insegniamo ci sono ogni anno no? nuove uscite nuove pubblicazioni quindi il docente è anche normale che decida di inserire un un testo diverso proprio perché è magari più nuovo perché riporta qualche cosa di più eh rispetto alla materia quindi il fatto che un docente cambi no? il programma è anche un elemento se volete eh più che dà più valore all'insegnamento però ecco dovete stare attenti nel guardare alla sereteria online però insomma è un qualche cosa che poi si impara anche a gestire cioè non niente di particolarmente difficile perché l'anno accademico viene sempre riportato quindi ecco eh date una un controllo insomma questo è il consiglio che vi diamo controllate bene i sillabi prima di eh di partire poi c'era un'altra domanda interessante eh mi pareva che l'avesse posta Alice si perché eh chiedeva il badge universitario come si ritira sul sito dice che non c'è disponibilità di appuntamenti per il ritiro allora su questo ci stiamo ci stiamo lavorando al momento eh durante la procedura online ci dovrebbe essere la possibilità di prenotazione per il ritiro del del badge eh se non ci fosse comunque sia tenete presente che noi siamo aperti in quegli orari quindi alla bisogna insomma rilasciamo il badge in quei giorni e in ogni caso ecco se c'è qualche discrepanza tra l'appuntamento e l'orario d'apertura ci sentiamo ci scrivete non è un problema il testerino viene rilassato allora siamo in perfetto orario però mh non credo che si sia stati così bravi a fugare qualsiasi vostro dubbio quindi approfittatene possiamo avere ancora qualche minuto per rispondere alle vostre domande quindi se c'è qualche cosa per esempio che ancora non vi torna oppure magari ci sono delle dei servizi di cui non abbiamo parlato insomma questo è il momento ecco poi per carità nel momento in cui cominciamo la presentazione dei due corsi è chiaro entriamo più nello specifico no dei due corsi di laurea però era importante darvi uno scenario dentro il quale collocare poi il funzionamento e l'erogazione dei due corsi di laurea quindi prima di entrare diciamo nel particolare vi chiedo se ci siano ancora domande o curiosità che volete affrontare altrimenti passiamo alla presentazione dei corsi in chat allora no no stanno arrivando altre lezioni allora qualche altra cosa possiamo dirla le lezioni ma allora scusami il badge può essere spedito io non credo era stato all'inizio preventivato una cosa del genere però al momento al momento questa opzione non è stata contemplata poi ripeto veniamo incontro alle difficoltà e alle esigenze di tutte però vediamo un attimino quella che è la normale procedura l'eccezione c'è sempre insomma volevo rassicurare Cristina ha fatto benissimo a toccare l'argomento dei libri di testo e per me è un po' un punto critico ma lo dico perché perché molti studenti mi scrivono chiedendo la conferma che i testi che vengono indicati nel sillabo siano quelli allora voi capite che se non andiamo delle informazioni chiare poi diventa anche difficile rispondere a richieste informative di questo tipo quindi nessun problema assolutamente anzi sono contenta di aver toccato questo argomento e invece un'altra cosa che avete chiesto è didattica didattica punto dsfusi chiocciolaunisi punto it comunque ecco gli indirizzi mail li trovate nel sito questa è un'altra domanda importante cioè le lezioni si sovrappongono fino a un certo punto cioè noi facciamo di tutto Alessio Ricci ne sa qualcosa ecco sì magari dico due due parole rapidamente perché eh mi occupo in particolare del dell'orario del corso di laurea di lingue e allora eh fare l'orario di un corso come quello di lingue è eh operazione piuttosto complessa perché ci sono sei lingue straniere ci sono moltissimi insegnamenti eh opzionali e eh è letteralmente inevità è impossibile impossibile che eh soprattutto poi in questo momento in cui abbiamo dei problemi di aule di spazi dovuti come potete facilmente immaginare al problema del distanziamento sociale è impossibile dicevo che eh non vi siano eh non vi sia un eh picco una piccolissima quota di sovrapposizione fra alcuni insegnamenti però eh questa piccolissima quota riguarda eh esclusivamente eh insegnamenti che sono opzionali cosa voglio dire voglio dire che per esempio al secondo anno ci potrebbe essere un insegnamento opzionale cioè un insegnamento a scelta eh fra una rosa di sette otto dieci insegnamenti con un altro di lingue di una lingua straniera questa potrebbe essere una situazione eh reale allora in questo caso capite bene che eh è veramente impossibile che non ci sia una sovrapposizione di questo tipo allora quando preparerete il vostro piano di studi eh fate anche attenzione a questo aspetto non solo ma poi eh avete la possibilità di avere delle lezioni eh registrate questo significa che se ci sono due insegnamenti che si sovrappongono eh seguirete dal vivo in presenza quello che vi sembra più indispensabile seguire e l'altro le lezioni dell'altro corso le potrete facilmente recuperare eh tramite le registrazioni eh eh delle lezioni quindi il problema della sovrapposizione eh di qualche corso è un problema direi così tutto sommato eh facilmente facilmente risolvibile eh la seconda raccomandazione è che eh se nel corso sia durante quest'anno ma anche durante i prossimi anni vi capiterà di rilevare delle sovrapposizioni particolarmente problematiche noi facciamo di tutto stiamo molto attenti a che ciò non accada ma qualora capitasse eh potete avere come punto di riferimento gli studenti rappresentanti all'interno del comitato per la per la didattica vi dicevo poco fa quando vi ho parlato degli studenti dei docenti tutor eccetera che è importante anche individuare subito chi sono i rappresentanti che poi faranno da tramite tra voi e i docenti quindi se avete eh delle osservazioni da riportare ai docenti al comitato per la didattica rivolgetevi direttamente ai rappresentanti degli studenti bene io direi che possiamo finire qui con questa prima parte in modo che adesso passiamo alla presentazione dei due corsi di laurea allora abbiamo fatto la scelta di che è questa chi è interessato o già iscritto al corso di laurea in lingue rimane in questa aula e nell'aula tre chi è iscritto o vuole iscriversi a scienza ed educazione sale su nelle aule della stessa palazzina quindi c'è l'ascensore ma naturalmente non dovete prenderlo in troppe persone le scale grazie arrivederci ciao grazie adesso bisogna parliare stanza virtuale eh sì buon lavoro anche a voi grazie a tutti 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 Scusate, vi invito a silenzio perché dobbiamo fare delle prove per capire se funziona. Mi sentite? Chi è collegata a distanza? Mi sente? Benissimo, perfetto, grazie. Allora, noi qui ci siamo, facciamo senza microfono, magari ci dite se a un certo punto non sentite. Quindi io a questo punto ci siamo, penso che si possa partire con la presentazione del corso di laurea in centro di educazione della formazione e lascio la parola alla Presidente, la professoressa Loretta Padri. Io direi di fare una presentazione collettiva, quindi innanzitutto benvenuti, voi siete le nostre matricole in un anno particolare che ci vede tutti mascherati, però dobbiamo stare molto attenti a tutte le regole che ci vengono suggerite e vedere anche di fare lezioni in maniera piacevole, nonostante che, voi dite, siamo travesiti tutti da ladri, no? E allora, come Presidente del corso di laurea, voi sapete che il nostro corso di laurea è un corso di laurea di scienze ed educazione e della formazione. Poi che cosa sapete di questo corso? Così vi faccio anche, stiamo partendo dalle domande, no? Così poi vediamo, che cosa sapete di questo corso? Aspetta, bravo. Intanto, di che cosa ci occupiamo noi qua? Di educatori, diciamo, partiamo dalle professioni, diciamo che cosa va a fare o può andare a fare chi esce da questo corso di laurea, eh? L'educatore sociale, lo sapete, cioè un educatore che può lavorare in tutti i contesti dove ci sono bisogni di sviluppo o bisogni rispetto a disabilità, rispetto a tossicodipendenze, rispetto alla genitorialità. Allora, ah, so fuori, ok. Rimando qui, brava, rimando qui. Quindi l'educatore sociale è quel professionista, noi parliamo di professionisti dell'educazione, è quel professionista che può lavorare dal nido agli adulti, ok? Quindi che si occupa sia di apprendimento degli adulti, che a volte il nome si chiama educatore formatore, no? Per intendersi, ma però quello che, come dire, supporta i singoli, le comunità e le organizzazioni nel loro processo di crescita. Voi pensate tutti oggi alla filiera della genitorialità, ai nuovi costrutti con cui si pensano le soluzioni per gli anziani, va bene? A tutti, ai giovani, alle marginalità, alle differenze. La cosa più eclatante, che vi posso dire? Voi pensate qual è la cosa più specifica che vi viene in mente in questo momento, cioè dove la società è in apprendimento. Quali sono le cose più eclatanti, diciamo, bisogni? Noi siamo, Arezzo, è la città di dieci anni fa o sta cambiando? E come sta cambiando? Arezzo sta diventando una società multietnica, cioè una città multietnica. E, come dire, il problema della convivenza tra persone che provengono da territori diversi e che possono avere traiettori di valori diversi o simili ai nostri, è una condizione che richiede dei facilitatori. Cioè, quelle che noi chiamiamo, come possiamo apprendere a diventare contesti multiculturali. Questa è un'emergenza. Che noi, per esempio, una delle nostre caratteristiche è di avere un indirizzo che si occupa di questo. Per esempio, abbiamo delle discipline che si chiamano pedagogia della radicalizzazione. Che significa questo? Che ci occupiamo di terrorismo? Non necessariamente, ma ci occupiamo di come le persone maturano dei pensieri micro-radicalizzati, alcuni dei quali arrivano alla radicalizzazione. E facciamo sempre questo esempio. Se una scuola, in una scuola i genitori italiani tolgono i figli perché è alto il tasso multietnico, li stiamo in presenza di una situazione micro-radicalizzata. Allora, come dire, uno dei temi emergenti nostri è proprio quello di curare l'educatore che sa muoversi in un contesto multiculturale, cioè che si propone come professionista. Voi pensate che già nei miei romani ci sono i facilitatori dei condomini, cioè come dice, sono tutta una serie di facilitatori che aiutano ad apprendere nuovi stili di vita o nuove forme di convivenza. Quindi noi ci occupiamo dall'infanzia, educatore dell'infanzia, alcuni di voi sono interessati all'educatore dell'infanzia, a tutti i contesti e a tutte le età in cui c'è bisogno di apprendere e di attivare i processi educativi perché le persone possono apprendere. Non so se sono stata chiara su questo. Quindi è una professione che collude con molte altre. Va bene, una volta un titolo è... Quindi ci sono persone che si danno alla mediazione familiare, ci sono persone che si preoccupano di sviluppo organizzativo, ci sono persone che lavorano nell'asilo nido, che si immaginano prima come educatrici o educatori dell'asilo nido e poi si immaginano anche come manager o manager dei servizi educativi o servizi alla persona. Quindi la nostra è una professione che in qualche misura in questo momento si sta espandendo. Non so se ci sono domande riguardo. Che cosa andiamo a fare? Noi abbiamo anche una magistrale, per cui chi di voi la potrà frequentare, potrà avere anche una magistrale. Qua ha il titolo Scienze per la formazione e la consulenza in diversi contesti educativi. Però quando avete preso il titolo, non è che uno è condannato a lavorare nell'asilo nido, potete scegliere, va bene? È obbligatorio per tutti, almeno abbiamo fatto questa scelta, avere quei crediti necessari per poter insegnare anche nell'asilo nido. Però chi fa quelli poi può andare a lavorare, se cambia idea, anche in altri contesti. Poi, quindi, educatore sociale, educatore dell'infanzia e educatore degli adulti. Ci siamo? Quindi è una bella fetta di... Che cosa... Allora, se ora ci sono domande su che cosa andremo a fare, me le fate. Se no io entro in mezzo a che cosa studiamo. Ci sono domande? È chiaro quello che fa il professionista dell'educazione. Prego. Mi è ben chiaro che se ho fatto un po' del curriculum che, diciamo, hanno lo stesso... Ah, ho capito. ...il corso iniziale, il primo anno, il corso del sociale poi dà la possibilità anche per poter eventualmente lavorare... Al nido. Allora, questo ve lo spiega bene Francesca o Alessandra? Sì. Allora, per quanto riguarda il primo, il corso del corso del corso dell'infanzia, lei, diciamo, si costruisce un profilo professionale, una professionalità per lavorare con bambini, il che vuol dire la fascia d'età zero per anni. Questa è la... lo dico anche per eliminare magari dubbi, ma poi scuola primaria, no. Questa è proprio una figura specializzata che lavorerà appunto nelle strutture infantili. Quindi avrà dei crediti dedicati. Esatto. E quindi questo vuol dire che se veniamo alle materie che studierà, studierà soprattutto per approfondire, specializzarsi nell'ambito appunto dell'infanzia. Quindi ci sono proprio delle discipline per realizzare il gioco. Ci sono delle materie che in qualche modo lei deve acquisire per costruirsi questa professionalità. Quindi questo è uno dei primi. Il secondo è quello che appunto la collega diceva, quindi educatore sociale, il che vuol dire che si va a lavorare in contesti dove ci sono i minori, la disabilità, gli anziani, tutto l'ambito dell'educazione degli adulti. Quindi è un profilo professionale diverso. Sono due specialità, però è chiaro che il primo anno è un anno in comune. Perché in comune? In comune è importante che voi potete esprimere la scelta di quale curriculum perfezionarti alla fine del primo anno. La potete già esprimere all'inizio del primo anno oppure potete scegliere alla fine uno dicevi prendo un anno in cui comincio ad approfondire alcuni aspetti e vi prefiguro anche in maniera più definita se intendo diventare un professionista che lavora all'interno dei servizi educativi 0-3 o per il sistema integrato 0-6 che abbiamo in Toscana oppure se mi interessa invece lavorare in contesti sfidati con persone adulte come le comunità, come le persone operative, come le persone operative, come le persone operative di Toscana come tutti i studenti che hanno avuto questa differenza di curriculum ma ovviamente è importante non solo per la configurazione professionale ma anche perché per lo stesso nei concordi chiedono ovviamente di esplicitare di aver fatto una formazione specifica sui servizi educativi per l'infanzia come i famosi 55 e CFU oppure chiedono di esplicitare perché fa una formazione specifica sull'educazione degli adulti e sui coordinamenti ma anche via dei servizi alla persona per cui la scelta del curriculum ma che fa è tanto con una configurazione professionale a 4.com quindi che tipo di professionista voglio essere alla fine di questo percorso e in quali settori mi piacerebbe accostarmi? Sì, fra l'altro chiedono in chat scusami Mario chiedono in chat è possibile fare un cambio da infanzia sociale? Sì, è possibile quindi si può e sentite male la spiegazione allora bisogna venire tutti qua quando parliamo bisogna venire tutti qua va bene però abbiamo risposto anche alle domande in chat perfetto e non ultimo anche il tirocino cambia infatti se il referente del tirocino io brevemente sì e poi se mi ha parlato e lascio guarda scusa però potresti potresti intendere quando si dice che cos'è il tirocino ma insomma no ma se posso sulla domanda che aveva fatto prima la studentessa nei piani di studio del due curricula nei piani di studio del due curricula il primo anno presenta gli stessi insegnamenti quindi voi al termine dei tre anni avrete i 55 CFU che per legge dovete avere per lavorare negli asili nido quindi con utenti 0-3 quindi potete per rispondere alla tua domanda potete in entrambi i casi lavorare nei servizi all'infanzia 0-3 anni ecco era quello che voleva chiedere perfetto va bene quindi questa è una scelta perché a nessuno di voi si è precluso di fare una cosa e non un'altra su questo credo che sia importante vi dicevo appunto quali sono poi le nostre le questioni dove noi ci che cosa studiamo che cosa studia voi avete visto i nostri piani di studio avete visto le materie che cosa vi viene in mente voi avete visto per esempio architettura avete visto pedagogia psicologia avete visto filosofia avete visto storia avete visto che ci sono delle materie caratterizzanti delle materie che complementari ma fondamentali per che cosa ha di particolare questo curriculum rispetto ad altri per esempio a psicologia o a sociologia o a lettere la psicologia si studia solo psicologia ok a sociologia si studia solo sociologia con alcuni esami liberi il nostro è un corso di laurea che è nato in termini multiculturali cioè che le materie caratterizzanti sono date le materie pedagogiche sociologiche e psicologiche va bene caratterizzanti poi vi faccio un esempio architettura vi dico vi siete resi conto quanto è importante oggi pensare bene gli spazi i quartieri le scuole i momenti di convivenza cioè oggi niente come dire voi vedete che ci sono delle grandi sperimentazioni su come lo spazio può contribuire materialmente a fare incontrare le persone ecco allora questo a parte ringrazio il collega a sua parità dell'architettura perché uno dice ma cosa c'entra l'architettura cioè allora la domanda è come si fa a occuparsi l'educazione senza avere delle cognizioni sul valore dello spazio ok quindi noi siamo un corto di laurea multidisciplinare che ha delle batterie caratterizzanti che sono quelle che vi ho detto tutte le discipline pedagogiche psicologiche sociologiche ok però altrettanto importante è che noi abbiamo la possibilità di avere per esempio i filosofi che non è che insegnano e qui c'è c'era il collega prima ora non c'è più Stefano che non è che insegnano la filosofia come la insegnerebbero a un corso di laurea di filosofia ma la insegnano come insegnano ciò che serve ad un educatore quindi filosofia dell'educazione oppure facciamo un altro esempio filosofia delle organizzazioni cioè tutto quello che sono tutti i corsi tutti come dire colleghi esseri storici si può come dire essere un educatore di una dimensione storica io sono partita chiedendovi quali sono le specificità contemporanee che ci caratterizzano no? cioè quali sono i bisogni più emergenti perché noi dobbiamo sempre interrogarci e questo perché ognuno deve avere una coscienza storica c'è una capacità storica di capire voi pensate alla centralità della questione di genere io ho una certa età come suol dire mai dieci anni fa mi sarei immaginata che gli studi di genere sono fondamentali per chi ha che fare con processi educativi va bene perché sennò è un paio occhiari che non ha capite che voglio dire quindi voi avrete una serie di insegnamenti pedagogia speciale pedagogia delle organizzazioni pedagogia sociale educazione degli adulti ok metodologie didattiche dei processi educativi e formativi metodologie della formazione distribuite negli anni per cui dite noi siamo delle persone che la cui caratterizzazione è data dalle discipline pedagogiche sociali e psicologiche ok però non possiamo la nostra preparazione è arricchita dalla presenza di una uno studioso che dice gli spazi hanno un valore metaforico una cosa simbolico gli spazi sono gli artefatti materiali attraverso i quali noi pensiamo e questo è un grande discorso di grande interesse per tutti noi queste sono le aree che noi studiamo quindi voi fate un corso multidisciplinare che significa formato da materie caratterizzanti è chiaro ma fortunatamente fortunatamente anche da altre discipline che vi possono servire per capire va bene allora non so se sono stata chiara avete qualcosa da aggiungere ah e poi un'altra cosa importante sono le tecnologie cioè quindi come anche in questo fatto il collega insegna l'apprendimento di pratica con l'educazione digitale per esempio la mia insegnazione che voi avete nel secondo anno e che siete un po' a capire come è il nostro mondo la nostra società sta cambiando sta diventando sempre più digitale ecco poi ci sono altre domande per cui avete capito quello che andrete a studiare perché il piano di studi non è troppo libero ma è come dire ci sono delle discipline che obbligatoriamente dovete fare però non è un obbligo per essere obbligo ma per caratterizzare cioè se uno vuole fare medicina anatomia la deve fare ok così noi abbiamo creduto non noi università il corso di L19 ha creduto che alcuni percorsi siano necessariamente prescritti ecco l'altra novità se qui ci sono domande rispetto a che cosa si insegna ok come si insegna e poi risponde alle domande dei colleghi come si insegna faccio una parentesi quest'anno voi avete la possibilità di frequentare in presenza ma anche online cioè io in questo momento sono collegata con alcuni colleghi vostri che parteciano la lezione e saremmo sempre collegati con i colleghi di Grosseto una una io sono di snomi che è quindi qualche qualche termine lo confondo lo sbaglio non mi ricordo i nomi allora noi lo facciamo in maniera sincronica cioè nel senso che facciamo una lezione in questo momento noi siamo collegati con i vostri colleghi da casa e con i colleghi che sono a Grosseto va bene a tutti voi è data la possibilità ok di scegliere di farle online è chiaro che credo che per una matricola sia importante anche la presenza no ecco però come dire ci possiamo anche mettere d'accordo quali parti è importante frequentare e quali parti se sono di elezioni si possono fare online questo è un altro discorso e come insegniamo anche questo è molto importante in questo dipartimento che ha avuto in questo corso di laurea che ha avuto negli ultimi dieci anni le iscrizioni sono quadruplicate va bene la nostra caratteristica è quella di lavorare su problemi reali va bene partire non tanto dalle discipline quanto dai problemi che le discipline possono aiutare come dire le discipline che poi non sono atto che delle categorie interpretative possono aiutare per i soli quindi studi di caso metodologie attive di sviluppo voi se leggete il syllabus ognuno di noi ha indicato i diversi modi di valutazione cioè quindi in aula il 30% mi sembra il 30% noi lo viene valutato in aula per le esercitazioni che si fanno per il lavoro cioè come dire è data la possibilità di avere un'aula dove si può si deve parlare e discutere dove come dire l'esame si impara giorno per giorno si prepara giorno per giorno ok poi ognuno deve scegliere la sua modalità però questo noi siamo come dire poi vi diranno noi siamo un dipartimento che ha scelto una metodologia attiva di sviluppo cioè che lo studente sia artefice anche del suo apprendimento e se ne assuma anche la responsabilità intervenendo in aula va bene senza costruzioni facendo delle cose insieme in aula che sono già una forma di valutazione che va a carico della valutazione finale ok quindi una metodologia attiva che ci farà studiare dei casi che ci farà riflettere su alcuni incidenti critici su alcuni dilemmi per vedere che le discipline noi non studiamo le discipline ma noi studiamo le teorie che servono per risolvere il problema ok quindi ci diamo degli strumenti concettuali per vedere come avere più punti di vista aiuti a risolvere i problemi che siamo chiamati ad affrontare ok ora ecco l'altra domanda è come si studia che cosa si studia ci sono domande di approfondimento ci sono diverse domande nella chat ecco però riguardano sì io direi che se potete aspettare magari queste rispondiamo anche alle domande che avete posto però si può finire un attimo la presentazione ecco allora ci sono domande non si può sosteguire allora allora mi sto a rispondere ai vostri colleghi voi intanto pensate a qualche domanda poi l'unico luogo dove è ci possiamo permettere di sbagliare è l'aula capite è uno dei pochi luoghi dove come dire nessuno crede che tutto si faccia bene ma che si può in qualche misura sfidare tentare far vedere la sua difficoltà perché siamo lì proprio per questo quindi come dire a differenza degli altri di scuola ok dove sbagliare è essere puniti qui come dire non avere le idee chiare imparare a avere le idee chiare a farsi le mappe è un obiettivo non è un punto di partenza ok poi si parte anche dal presupposto che discutendo si impara quindi come dire che è più importante discutere che non ascoltare e basta delle lezioni frontali le lezioni frontali sono degli argomenti centrali si possono anche ascoltare online perché per 20 minuti un collega vi fa una lezione su una teoria quella come dire si può anche ascoltare l'importante invece è quando si dice come questa teoria può essere utilizzata per interpretare la realtà o per interpretare questo caso allora lì come dire la discussione è fondamentale eh allora voi avete domande non ci credo eh che non avete domande però però mi dice sempre ci dice sempre la nostra collega per non far fare domande devi chiedere di fare domande ok quindi allora l'importante è che ne pensate che impressione avete avuto e ecco quello che vi viene in mente è di dirci anche per aiutarci a eh pensare eh come possiamo venire in conto a certi aspettatori che voi come matricola avete eh allora un'altra cosa questo è un corso di laurea prevalentemente femminile vabbè benvenuti gli uomini eh cioè devo dire benvenuti però è un corso di laurea prevalentemente femminile che qualche tempo fa oppure ci sono delle interpretazioni che si dicono che dicono dobbiamo fare in modo di aumentare la presenza maschile che anche è giusto però se io lavoro con una prevalenza va bene di donne e sappiamo anche quali sono i problemi delle ragazze rispetto al lavoro noi magari abbiamo fatto ricerche chi viene qui in genere e vuole fare l'educatore dell'infanzia e si immagina dentro una struttura mai come organizzatore di servizi va bene siamo donne quindi come dire le barbie ci hanno fatto un po' hanno ristretto un po' il nostro orizzonte non c'è niente di male se noi abbiamo paura a sfidare dei lavori va bene noi come dire come corso di laurea ci facciamo più carico anche di far crescere la cultura del lavoro capito cioè di far crescere di far crescere un'idea di lavoro va bene che si costruisce nel tempo quello che mi fa paura inizialmente io poi forse del terzo anno non ho più paura va bene io ho delle criticità ho dei problemi bene voi sarete degli educatori che avranno il problema di gestire bene le questioni di genere gli istituti di genere sono una scienza non sono come dire una dimensione politica o altra cosa per cui noi abbiamo molta attenzione a far sì che i nostri punti critici diventino i nostri punti di forza quindi un orientamento al lavoro che tenga conto anche delle nostre distorsioni che provengono dagli apprendimenti pregressi ci aiuta a rafforzare un'identità quindi in questo senso noi non crediamo che sia un limite ma che sia la nostra caratteristica è come i bagni se voi ci andate a vedere ora non so ma noi abbiamo fatto togliere uomini e donne perché perché quando voi andate a fare il faccio un esempio perché quando voi andate a fare il break ci sono fine lunghissime a quelle femminile e cortissime con le maschili allora vuol dire è stupido dal punto di vista organizzativo e spaziale questo è il collega non pensare a questo facciamo le toilette per tutti cioè capite allora pensare attraverso la questione di genere ci apre alcune prospettive che altrimenti non ce le abbiamo e queste sono un po' le questioni che vi butto là e che fanno parte dell'identità della storicità anche no? perché oggi la questione di genere è importante ecco e diventa materia di studio diventa un occhio una prospettiva senza la quale noi falsifichiamo la realtà basta ho detto alcune cose allora ho detto alcune cose anche per incuriosirvi per inserirvi dentro un contesto allora rispondo a queste domande tecniche uno mi chiede sono registrate le lezioni online? sì tutte le lezioni sono registrate va bene? sono registrate così chi vuole se le può risentire se le può riascoltare ecco quello come ah l'altra ecco che cosa volevo dire noi abbiamo vissuto il periodo del coronavirus e quindi dell'online non solo non solo come una necessità ma anche come un'opportunità ovvero ci siamo posti il problema come possiamo va bene avere un approccio attivo attraverso l'online ok? oppure per esempio abbiamo avuto dei guadagni l'orientamento il ricevimento i collochi per la tesi tutta una serie di questioni possono essere fatte online con i diversi docenti va bene? soprattutto in questo periodo in cui i contatti meno frequenti sono e meglio ma non è ma non per questo io per esempio ho dato un appuntamento online a una studentessa per domani a l'ora di pranzo ok? quindi oppure c'è il ricevimento non posso venire ecco quindi come dire è come se il coronavirus ci avesse consentito di fare dei guadagni in cui non si torna indietro capite? in cui noi dobbiamo anche anzi incrementarli eh senza per questo diminuire l'importanza del discutere insieme dell'apprendere insieme eh dello stare insieme perché esiste una conoscenza relazionale che richiede il contatto esiste una traforma di conoscenza che si può fare online ok? però anche una serie di servizi ricevimento discussione tesi queste possono essere fatte online e questo ci fa guadagnare guadagnare tempo soprattutto a voi che non vi dovete muovere ma lo potete fare da casa poi ma chi frequenta sulla distanza? chi frequenta sulla distanza frequenta sulla distanza cioè come dire eh la frequenza nel nostro corso di laurea non è obbligatoria perché voi trovate noi abbiamo fatto un manifesto cioè un patto no? manifesto e si dice il corso di laurea non è obbligatorio ok? non è obbligatorio la frequenza mentre obbligatorio è medicina faccio un esempio ok? quindi la frequenza è auspicabile perché quello che si impara insieme ok? è più difficile online però noi abbiamo poi lascio la parola a lui inventato inventato sperimentato un sistema che consente anche online di partecipare in condizioni di cattività in condizioni di normalità l'online si utilizza per come dire per aumentare la potenzialità della conoscenza ecco si associa sempre appunto la distanza l'utilizzo di piattaforme e learning come a una poca partecipazione degli studenti in realtà noi l'anno scorso abbiamo provato a migliorare la partecipazione anche attraverso la tecnologia ad esempio potete vedere le slide quindi leggere le slide sentire l'audio delle lezioni vedere le video lezioni potete scrivere sui forum e interagire con gli altri studenti che commentano i vostri post potrebbero abbiamo anche realizzato un sistema di feedback automatizzato in modo che per ogni argomento che voi affrontate potete capire a che livello di preparazione siete quindi ecco la partecipazione è da intendere in altro modo ma comunque riusciamo ad arrivare a un buon livello ok questo risponde a domanda questo non vuol dire ripeto che la presenza va bene non consenta come dire altre cose è chiaro ecco noi abbiamo fatto anche dei seminari dove gli studenti dovevano discutere dei temi perché lo riteniamo lo riteniamo un momento però faccio un esempio l'online ci permette di collegarci con una collega degli Stati Uniti con una collega della Columbia cioè capite ci permette di dire ma che cosa fanno gli educatori in Spagna allora cioè capite l'online è quello strumento che rende il mondo vicino ecco allora noi faremo anche delle conferenze con dei colleghi internazionali mi raccomando l'inglese mi raccomando l'inglese qualcuno ha scritto scusate l'inglese era obbligatorio allora il test come dire serve uno non deve chiedere se è obbligatorio o meno deve dire a che cosa serve serve per accertare il livello a cui voi siete e fare un corso di conseguenza cioè se faccio un esempio io ho un'aula dove già hanno il B1 e il B2 preso alle scuole medie e superiori è chiaro che io farò un corso di un certo tipo in inglese se ho un'aula dove non hanno nessuna certificazione e un inglese molto incerto si faranno un altro tipo di corso quindi io consiglio a tutti di fare il test in inglese l'inglese non si fa l'ultimario non fate il primo capite che voglio dire perché vi faccio un esempio noi qui facciamo molti convegni in generale molti convegni in inglese ve lo dice una che ha dei problemi grossi perché appunto essendo disnomica non è facile però voi potete partecipare sapendo che la lingua inglese è quella lingua che vi consenterà di parlare con chi incontrate perché se noi incontriamo gli spagnoli con che lingua parliamo l'inglese cioè capite ecco quindi l'inglese voi lo dovete fare fin dal primo anno questo è il consiglio che io vi do capite fin dal primo anno man mano che così più aumentate le vostre competenze linguistiche più aumenta la vostra capacità di partecipare a un dibattito internazionale ok noi l'università è università perché è universale no qui dentro l'università di Siena noi possiamo collegarci con tutto quello che riteniamo opportuno quindi questa è un'occasione per esempio che l'online ha dato prima si faticava ora è diventata un noi abbiamo fatto quest'anno un un testo abbiamo chiamato che l'ha scritto online cioè vi immaginate invitare una a Venarezzo non viene cioè dalle tre alle quattro viene l'autrice di un libro che ci ha interessato e si fa online quindi apprezziamo noi non siamo d'accordo nel ritenere che l'online sia noi non siamo una telematica questo è chiaro va bene quindi l'online lo utilizziamo in un certo modo va bene con un certo livello e così questo tipo così come noi online possiamo mettere delle lezioni di qualche collega che fa il punto su una situazione quindi quello che consente l'online è infinito ok detto questo soprattutto voi che siete matricole il primo anno l'importanza della conoscenza relazionale studiare insieme scusate se sono lunga mai studiare da solo molti dicono a me piace studiare da solo ripetere va bene essere concentrati mai studiare insieme voi avete 424 a disposizione va bene studiare insieme significa discutere ok imparare a lavorare in gruppo che è indispensabile e poi avere due forme di apprendimento dal docente e dal gruppo dei pari dentro il gruppo dei pari c'è chi ne sa di più chi ne sa di meno chi ha approfondito un aspetto quindi il consiglio che io vi do imparate a mettere in rete voi potete usare anche l'online un giorno faccio uno skype guarda la professoressa ha spiegato questo io non l'ho capito se ne parla insieme ok quindi dovete veramente pensare che ci sono due forme di conoscenza la conoscenza come dire formale che viene trasmessa in un certo modo e la conoscenza che è tradotta in prodotti come i libri eccetera e la conoscenza relazionale quella che noi si costruisce discutendo e l'università è questa una grande palestra non solo perché noi dobbiamo trasmettere conoscenza ma perché vi dobbiamo consentire di apprendere come si costruisce la conoscenza che vi servirà per i soldi quindi l'università è anche un luogo dove gli studenti se vogliono possono partecipare a dei processi di costruzione della conoscenza ok significa ho un problema non c'è la soluzione universale no la ricetta come faccio ad affrontarlo come faccio a capirlo avere questo tipo di strumenti allora scusate nel primo anno le lezioni per l'educatrice per gli adulti per i bambini coincidono il primo anno è comune sì il primo anno è comune allora l'esame di idoneità di lingua inglese B1 l'abbiamo spiegato ora sarà possibile seguire le lezioni online per tutto l'anno per il primo semestre sicuramente per esempio gli studenti lavoratori sono i lavoratori che diceva non posso seguire perché sono un lavoratore prego una domanda riguardo alla situazione di isole di lavoratori poi i tiroscini sono organizzati in base magari alle esigenze di chi lavora i tiroscini i tiroscini allora innanzitutto voi avete 250 ore obbligatorie no questa è la premessa 250 ore obbligatorie da fare 125 nel secondo anno a 325 nel terzo anno ovviamente è un momento importante non solo perché si entra in contatto con il mondo del lavoro ma anche perché noi vorremmo che in questo momento riusciste un po' a interrogarvi su che cosa si fa realmente al lavoro quindi quali sono le pratiche che sono difficili da apprendere appunto per diciamo così sui libri ma che invece nella quotidianità della professione si vengono ad imparare e soprattutto noi vorremmo che faceste un piccolo progetto di ricerca all'interno del quale appunto voi riusciste a raccogliere dati in questi contesti lavorativi per diciamo così fare in futuro delle decisioni prendere delle decisioni informate sulla base di dati comunque venendo poi un po' alla domanda specifica ovviamente chi non lavora deve trovare un'organizzazione ma lo sopportiamo in questo chi non lavora ha delle organizzazioni di cui non è deve trovare deve scegliere è vero deve scegliere tra le organizzazioni che gli mettiamo a disposizione come dire quella più in linea con le sue aspettative col suo progetto professionale per chi lavora invece è possibile al di fuori dell'orario di lavoro continuare nel luogo di lavoro seguito supervisionato da un tutor universitario però se uno fa l'impiegata in un futuro ovviamente il contesto di lavoro deve essere nell'ambito educativo o correttivo è vero per finire il discorso del firocino allora il firocino è estremamente importante in genere si lega anche il fatto di scelta alla tese che non è il triennio voi non avete una tesi ma un elaborato scritto che può il minimo di pagine sono 30 ok quindi è un elaborato scritto non è una tesi anche questo è importante tenerlo a presa perché è un conto fare la tesi o un conto fare un elaborato scritto va bene che può essere la continuazione la sistematizzazione del progetto di ricerca fatto nel firocino oppure una ricerca monografica o un altro tipo di ricerca più teorica ecc e sulla tesi abbiate fantasia va bene c'è iniziato che parlate di tutte le materie che ci sono e anche provate a scegliere dei temi sfidanti ecco il tirocino però vi dicevo è importante perché io faccio sempre questo esempio secondo voi un chirurgo impara a operare in aula o quando va ad osservare cosa fanno i chirurghi allora la conoscenza più complessa non è quella teorica è quella pratica allora voi andate a capire va bene quella conoscenza che è iscritta dentro le azioni del professionista un problema semplice va bene siamo tutti uguali la gestione di una classe multietnica il problema non sta nell'assunto filosofico ma nella gestione totale quindi il tirocino se ben fatto è una fonte enorme di professionalizzazione ok per voi è obbligatorio va bene quindi avete un tutor se avete il responsabile che è il professor Giampaolo che se ci sono problemi con il tutor fa da mediatore ecco un tutor universitario un tutor aziendale ok per gli studenti lavoratori noi abbiamo crediamo che gli studenti lavoratori debbano essere facilitati non ostacolati quindi i programmi degli studenti lavoratori e degli studenti non lavoratori sono identici è chiaro che gli studenti lavoratori non accedono a quei punteggi che si acquisiscono in aula questo non è a mio motivo non si colleghino online o cose di questo tipo quindi questo è ma se uno lavora e lavora in un contesto compatibile una parte diventa riconosciuto va bene se faccio l'esempio lavora in un contesto non compatibile o estraneo si trova le condizioni per comunque perché questa persona possa rendere da noi rendere compatibili il bisogno dei studenti lavoratori con il corso questo è il discorso da poi ci sono altre domande e ti riuscini anche fuori regione allora ora io devo dire una cosa su cui stiamo discutendo uno può fare anche il tirocino a New York è chiaro lo può fare non solo in un'altra regione ma lo può fare anche in un'altra nazione il problema è che sia significativo non è che io lo posso fare perché ho un asilo di sorine sotto casa e lo faccio lì il tirocino per voi è una sfida dove scegliete i posti migliori dove fare il tirocino il tirocino non si fa sotto casa io infatti su questo come presidente del corso di laurea l'ho fatto mentre verbale il tirocino si fa quando possiamo certo fuori regione perché faccio un esempio chi fa l'educatore degli adulti è molto meglio che vada fuori regione dove ci sono le grandi imprese che non dentro le regioni da noi come dire le piccole e medie imprese non è che poi hanno tanta cosa quindi il tirocino è una cosa importante noi facilitiamo in tutto ci sono anche delle borse di studio per andare all'estero l'importante è fuori regione perché il motivo per cui si chiede di introdurre dentro una lista validata va bene un'altra organizzazione se è un'organizzazione eccellente una buona organizzazione un'occasione tra altri studenti bene se è una comodità no ma dice perché non vuoi renderci la vita comoda perché a volte la vita comoda fa diventare scomoda la professione il tirocino è un momento fondamentale questo ve lo dico perché è anche oggetto della didattica noi da molta importanza per cui alla domanda si può fare il proprio posto di lavoro dipende da che lavoro va bene si può fare in un'altra in un'altra in un'altra regione perché va bene quindi il consiglio voi dovete pensare che c'è un in cui facciamo parte del comitato della didattica dove ci sono i vostri rappresentanti più alcuni colleghi che che è lì per facilitare e l'organo per facilitare i processi didattici uno dei nostri obiettivi è consentire agli studenti lavoratori di lavorarsi in tempo e di non sentirsi studenti sarebbero questa è una scelta ci sono alcuni colleghi che per esempio faranno lezioni in orario compatibile ora poi vi presento i colleghi un attimo mi scusi io sono in FVC non ho capito che vuol dire vabbè comunque io ho famiglia e Venezia Giulia ah ecco Venezia Giulia ho famiglia e frequento la distanza bene va bene ok va bene allora io ora quindi avete capito come alcune cose noi siamo perché la strumentazione tecnologica ci consenta un'espansione una didattica espansa va bene e funzionare i nostri bisogni chi per bisogni specifici deve frequentare solo online fino a dicembre noi dobbiamo stare a quelli che sono le normative che dà il ministero e che dà la ma fino a dicembre è possibile vi posso presentare dai colleghi allora io sono in retta fabbri insegno metodologie didattiche metodologie dei processi educativi e formativi va bene trasversalmente a insegno metodologie della formazione al terzo anno ok faccio il presidente del culto di laurea sono 10 direttori del dipartimento sono 10 direttrici anche su questo bisogna stare attenti perché non è detto che il maschile sia universale e spero di incontrarvi e di passare un anno tranquillo ora vi presento i colleghi perché così intanto vedete i colleghi che forse mi sono già presentato prima comunque sono Sebastiano Roberto sono Sebastiano Roberto insegno per le scienze dell'educazione al terzo anno un insegnamento che ha nome società contemporanea città e spazi educativi non credo che si debba aggiungere altro rispetto a quello che ha detto già la professoressa Fabri insomma l'importanza dello spazio pubblico e dello spazio inteso come luogo dove si può ci si può formare quindi uno spazio educativo mi sembra abbastanza evidente certo oggi in questa situazione che stiamo vivendo c'è una sorta di di contrazione della possibilità di di stare insieme nello spazio pubblico perché ci viene in qualche modo negato con questo distanziamento sociale quindi però questo può essere proprio un'occasione per ripensare lo spazio pubblico in così con una riflessione nuova a cui non eravamo mai stati sollecitati in qualche modo quindi può essere anche molto interessante parlare di questo certo voi siete del primo anno quindi io insegno in realtà al terzo anno per cui se sceglierete questo insegnamento mi troverete poi dopo al terzo anno di corso per entrambi come se volvano a fare il consiglio interessato a questi aspetti il collega è certo allora ora mi avete già forse conosciuto perché in quanto delegata all'orientamento del dipartimento stamattina penso di essere stata molto sulla scena io sono una sociologa e quindi insegno diverse materie sociologiche dalla sociologia generale a poi anche sociologia della famiglia nel corso degli anni in questo momento un corso prima abbiamo fatto l'esempio in plenaria di sociologia delle disuguaglianze nella specialistica ecco io vorrei non aggiungere molto però vi invito davvero a usare questo primo semestre con tranquillità nel senso che è vero siamo in un momento di transizione la pandemia è stato un evento sofferto da tutti però ecco mi allaccio a quello che farò detto dalla presidente o presidentessa non so come vuoi dire del corso di laurea cercate di sfruttare davvero le tante opportunità che come università cerchiamo di darvi quindi non soltanto la presenza come giustamente è stato detto cercheremo ovviamente di far sì che la presenza sia garantita e che ci sia in tutta sicurezza però anche l'online credete è veramente un'opportunità perché ed è stata anche un'occasione per innovare dal punto di vista la didattica per esempio io ho cambiato delle modalità dell'esame non tornerò più indietro perché mi sono trovata bene con questo nuovo metodo e lo userò quindi ecco non dobbiamo avere paura dobbiamo governare questo momento fra l'altro non soltanto il corso di laurea con il comitato ma anche tutte le figure di supporto sono a vostra disposizione studiate il sito e scrivete per qualsiasi cosa grazie grazie allora ora presentiamo i pedagogisti allora salve a tutti io sono aspettate eccomi qua io sono Alessandra Romano e insegno modelli di interventi e strumenti per l'inclusione al secondo anno quindi noi in realtà ci incontreremo al secondo anno e management dei servizi educativi al terzo anno come membro del comitato per la didattica e come referente per l'inclusione del dipartimento sono a vostra disposizione in modo trasversale lungo tutti questi tre anni e soprattutto condivido quanto la nostra presidente del corso di laurea e la delegata di orientamento hanno già esposto prima di me noi come vi avevo già indicato prima teniamo molto a preservare a presidiare la partecipazione attiva degli studenti delle studentesse all'interno di quella che consideriamo una vera e propria comunità dialogante e quindi siamo molto attenti come comunità di docenti a prendere in considerazione le richieste le questioni che colleghi studenti e studentesse ci portano e per il resto ci incontriamo abbiamo la filosofia della porta aperta e riusciamo sempre a individuare ecco abbiamo una traiettoria di disponibilità che per noi è un fiore all'occhiello e che fa parte del nostro modo della nostra attenzione nei confronti dei nostri studenti e delle nostre studentesse grazie ora per noi siamo tutti la feda il collega filosofo buongiorno Stefano Brogi Stefano Brogi no 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 se si vede da là ah scusate scusate ah scusate cerco anche di trovare il ecco la posizione giusta ce la possiamo fare sì Stefano Brogi sono insegno storia della filosofia nel caso del vostro corso di laurea insegno storia della filosofia dell'educazione quindi con una specifica attenzione ovviamente ai temi che vi interessano sono anche docente tutor in questo corso di laurea quindi credo che qualcuno di voi sarà mio tutorato diciamo mia vittima o viceversa e quindi siamo a disposizione come tutti per rendere il più possibile profigo il vostro percorso grazie dunque Mario Giampaolo qualcuno di voi ci siamo già anche presentati prima io non posso fare altro che ribadire quello che i colleghi hanno detto e darvi il benvenuto e un in bocca al lupo per questi tre anni che spero farete insieme a noi tre anni che vi porteranno a una professione in cui secondo me ha come limite solo la vostra immaginazione quindi tutto ciò che potete fare è nelle vostre mani e spero che questo corso di laurea vi porterà a realizzarlo grazie allora allora che ne pensate che ne pensano come abbiamo detto che impressione avete avuto c'era di qualche consiglio da darci siamo stati chiari siamo stati prolissi non abbiamo risposto alle domande che contano tutto ok va bene una cosa la vi dico io lo diciamo anche fra con lei dato che tutte le matricole tutti questi anni accademici si lamentano il fatto che tutti vi fanno presentare quindi il primo giorno uno ecco quindi è un rito che si ripete da disciplina a disciplina ok è chiaro che i diversi colleghi hanno bisogno di capire chi siete che cosa fate va bene però come dire potete anche avvertire il docente che ha un altro docente avete fatto questa pratica per così renderla più crescita dicevo anche ai miei colleghi no cioè come dire quest'anno tutti i docenti vorranno conoscere chi siete che cosa fate che cosa quali studi avete fatto e quindi c'è sempre un momento di presentazione che è funzionale sia a voi che a noi no quando per voi diventa ordito cioè con cui si chiede molte persone chiedono le stesse cose lo potete fare presente non ci sono nessun problema però capite vi volevo spiegare il senso ecco il fatto di dire come ti chiami per esempio il fatto di avere qui il nome scritto qua cioè è un modo anche per conoscersi no per entrare più in un contesto informale che ci consente di essere più liberi poi nell'intervenire nel ridurre le distanze tra di voi e con i colleghi non è sempre a distanza perché quindi è coraggiosissima con il rischio a guarda va allora vi salutiamo avete qualche anche qualche ascoltamento che abbiamo portato vi aspettate magari è un po' ma sempre sui corsi di inglese sì mi sembra anche a me che sia online sì però per questo a parte potremmo anche mostrare perché esiste proprio il sito del l'acqua che è il centro di rischio che voi non dovete appunto anche se non ci fosse stata la pandemia non sareste tutti andare a Siena perché veniva fatto tutto qui e il sito qui quindi io vi consiglierei anzi questo lo dico altrimenti tra l'altro vedo che avete appunto il teppio è un gioco dei discuci perché avete visto che è una delle prime tappe che giustamente anche Coretta Fabio lo ricordava cioè è ben subito fare questo test di autovalidazione così si capisce che livello di inglese a che livello si vede quindi io vi consiglierei di cercare un centro linguistico dentro al sito del dipartimento e scrivere o a Gabriele Gatti o a Stefani Gratti comunque trovate su tutte le indicazioni con il nome e la venuta così vi danno tutte le come ci sarà anche la spiegazione della banca però se avete anche i gruppi specifici scrivete al loro e poi non solo il due ma credo che sarà riveduto anche perché non è che c'è una volta e basta il test tra l'altro mi pare che si è andata anche a settembre e ora e poi ci dovrebbe essere questo è il test di inglese poi dovrete fare anche il test quello diciamo di orientamento esatto anche questo diciamolo perché spesso scrivete che non è un test selettivo ecco sono altri che prevedono il test selettivo il test di inglese questo è semplicemente un test di orientamento che oltre due pubbliche naturalmente il corso di laurea che manda il test selettivo si devono fare però è un test che serve per registrare quelle che sono le vostre competenze il resto se dovesse andare male cosa è abbastanza raro se dovesse andare male ci sono semplicemente le due competenze e quindi senza alcun elemento di salvamento magari fatelo perché portarselo dietro perché non ha senso sì ma poi ecco il gioco dell'oca che ti abbiamo dato presuppone proprio questo qual è la prima tappa che devo fare cosa devo fare ci sono delle operazioni delle tappe degli step che fanno la prima di fare e il migliore ok ora che mi fanno due domande e poi ci salutiamo per quanto riguarda Grosseto allora per quanto riguarda Grosseto Grosseto è la sede del nostro corso di laurea quindi che passa attraverso l'online cioè noi tutto il corso tutto il corso di scienza ed educazione verrà fatto simultaneamente va bene e con aule virtuali aperte con aule espansi a Grosseto per cui gli studenti di Grosseto possono collegarsi e seguire tutte le lezioni che noi facciamo qua ecco orario lezioni vi abbiamo messo poi il link per le lezioni su Meet compare in simultanea con l'inizio delle lezioni allora per capire qual è il link in cui insomma da cliccare per le lezioni ogni docente ha nella propria pagina personale Unisì un link che vi conduce all'aula virtuale vi ricordo la pagina personale del docente Unisì è aggiornata con il link della lezione va bene allora io saluto i colleghi di Grosseto se sono presenti gli studenti online che ci stanno seguendo e tutti voi noi ci vedremo presto perché da domani cioè da oggi sono state le lezioni noi siamo stati esonerati solo per ricevere con tutti gli onori le nostre matricole vi ringraziamo per la scelta che avete fatto e benvenuti una cosa voglio dire ricordatevi che voi avete a disposizione Campus Lab cioè ci sono delle aule chiaramente coronavirus permettendo quindi mantenendo distanza ma che vi consiglio di andare a studiare a mangiare il panino se ce l'avete a discutere va bene a differenza l'ipoteca lì non si deve stare in silenzio va bene e per ora abbiamo la prima superizzazione bene arrivederci anche per chi stava da casa ciao arrivederci a me si 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 no non lo so non lo so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.